Possiamo iniziare, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Lucio Maciocia, faccio parte della Società Italiana di Promozione di Salute e siamo fin dall'inizio all'interno di questo programma costruito grazie alla Fondazione Motte dei Paschi di Siena. Nel corso del tempo, voi adesso vedete degli strand che sono almeno sette anni attivi e che sono stati soggetti a varie modifiche da questo punto di vista. Quindi da questo punto sono abbastanza rodati e anche ben valutati da vostri colleghi nel corso del tempo. Io adesso non so esattamente quanti di voi è la prima volta che sono attivi rispetto al programma School Food, quanti hanno già fatto e quanti di voi, l'altra cosa essenziale, hanno accompagnato le classi durante tutto il ciclo di School Food. Quindi arrivato di terza e quinta elementare vi trovate con ragazzi che hanno già fatto esperienze di School Food e che probabilmente avete già attivato in terza elementare con gli stili di vita. Le metodologie che vi presenterò sono molto simili, molto spesso ci sono proprio delle sovrapposizioni di metodologie tra quello che è stato fatto in terza elementare e adesso in quinta elementare. I contenuti sono cambiati, nel senso che abbiamo cercato di tener conto delle differenze di età, della diversa sensibilità, della maniera di funzionare diversa del cervello a dieci anni rispetto a otto e del fatto che in qualche modo possano cominciare ad emergere delle tematiche e delle cose importanti. Come stili di vita in qualche modo è sempre stato il programma propedeutico che abbiamo cercato agli altri strand che hanno a che fare con l'alimentazione, che hanno a che fare con il risparmio energetico, con gli interventi di natura ecologica. Credo che adesso ci siano anche altri strand. Un po' di tempo fa eravamo l'unice e quindi in qualche maniera era il primo strand propedeutico agli altri. Adesso le cose sono un po' cambiate, però di fatto il programma che vi vado a presentare, Stili di vita, riguarda specificatamente le life skills, riguarda in maniera specifica modalità di interazione con la classe per la partecipazione attiva degli studenti, quindi riguarda molto il cooperative learning, userà modalità dal circle time alle simulate, al gioco di gruppo in gruppo, a giochi non a somma zero, vale a dire giochi in cui si vince partecipando, non si vince arrivando primi, perché se c'è un primo c'è anche un ultimo, quindi in qualche maniera siamo fortemente dentro una tematica di competitività e probabilmente con questi nostri ragazzi è bene tenere ben lontani, o almeno fare in modo che abbiano, facciano un'esperienza non solo di competitività l'uno con l'altro, di essere migliori, di avere voti migliori e così via, ma fare anche un'esperienza che ha a che fare con la solidarietà, con la capacità empatica verso l'altro e con l'accettazione, con l'integrazione. Questi sono i fondamenti di questo nostro programma. so per certo, adesso in quinta elementare probabilmente già dall'anno scorso avete cominciato a trattare con tutte le conseguenze del covid e io non ho idea adesso se in quinta elementare siete riusciti in qualche modo a pareggiare i conti, però di fatto una delle conseguenze profonde del covid è che l'isolamento coatto ha prodotto due effetti. L'uno ha amplificato le tematiche familiari, vale a dire che nelle famiglie che bene o male hanno retto e reggono ad una normale routine, che insomma in qualche maniera sono persone con una certa sanità mentale, allora probabilmente questi bambini hanno soltanto sofferto di un deficit di comunicazione con l'altro. In altre situazioni invece si è accentuato in tutti la caratteristica e la modalità di rapporto mediato con l'altro attraverso lo strumento elettronico. O il computer, come nel caso in cui quando facevate lezioni online, o tramite telefonino. Il rapporto con il telefonino sta cambiando, ha cambiato la realtà di questi ragazzi. Per cui di fatto assistiamo a due povertà ancora più accentuate, una povertà di relazioni tra di loro, concrete, effettive, non di relazioni mediate da uno strumento informatico, e una accentuata solitudine che però, mentre prima in qualche modo la solitudine poteva a che fare con una ricchezza di un mondo interiore, con immaginazione e così via, adesso ci troviamo di fronte dei ragazzini completamente cambiati che hanno, secondo me, poi scientificamente non è dimostrato da questo punto di vista, hanno anche un deficit rispetto all'impiego dell'immaginazione. Nel senso che le tecniche della produzione di film, cortometraggi, fumetti e così via sono talmente tanto raffinate che adesso tutto quello con tempo poteva essere immaginato, adesso si vede realizzato all'interno di uno schermo. Questo in qualche maniera, secondo me, limita anche la capacità immaginativa di un ragazzo, perché l'immaginazione poi passa attraverso alcuni cartoni, alcune situazioni, alcuni film, alcuni protagonisti, quelli della Marvel per esempio, che in qualche modo adesso invece suppliscono, ti danno quello che prima immaginavamo che potesse succedere, adesso succede sullo schermo. Poi siete voi le esperte più di me, quindi potreste rendervi conto che quanto sto dicendo effettivamente può o meno essere vivo. Questa è la premessa generale. un accordo con voi. Se siete d'accordo, noi faremo uno stop di dieci minuti ogni ora. Ok? Abbiamo a che fare fino alle 12. Sì. Sarebbe, per non farmi sentire troppo solo, troppo solo, per me è molto importante avere ogni tanto feedback da voi. Quindi invito Claudio a raccogliere le vostre voglie tramite messaggi di intervenire e di fermarmi nel caso in cui ci sono richieste di domande, di approfondimenti e considerazioni personali su quanto vado dicendo. Ok? Quindi sarei molto contento se voi mi fermaste ogni tanto che non mi fate fare un sorriloquio di quelli pazzeschi. Poco fa, insomma, ho avvertito il servizio in cui lavoro e sarei stato qui a parlare con uno schermo davanti da solo, a parlare con uno schermo e mi è stato detto beh mi raccomando prendi qualche psicofarbaco perché non è molto sana questa operazione. Concordo, non è molto sana. Quindi è importante che ci sia un dialogo. Io sono uno di quelli che soffre terribilmente della impossibilità al momento attuale per quante grande School Food dall'impossibilità di tornare a incontrarvi dal vivo in maniera tale da avere una relazione certa con voi mentre adesso giustamente o riesco ad interessarvi al punto da coinvolgervi nello starmi a sentire oppure potete far finta di aver aperto il computer e nessuno scoprirà mai niente. Quindi c'è proprio una mancanza di relazione che è molto più forte. È quello che vi succedeva durante il Covid. Voi avevate la classe che si collegava tramite computer ma non potevate né immaginavate quello che effettivamente i ragazzi facevano. Nesse vi stavano a sentire ancora peggio della classe. Però nella classe li vedete, vedete l'occhio dove va, potete in qualche modo reagire e permettere che ci sia una reazione. Ripeto, vi invito a interrompermi tramite richiesta di interventi. Nelle funzioni di team c'è sicuramente quella di richiedere la parola, quindi si alzerà un braccio e Claudio mi avvertirà nel momento in cui avrete questa esigenza. Ok? Bene. Allora, se siete d'accordo, iniziamo. Io appunto, non sapendo quanti di voi conoscono già le metodologie e così via, io faccio, come dire, mi comporto come se la maggioranza di voi non conoscesse fino in fondo questo programma. e quindi passo ad esaminare. Lo vedete il cambio? Si vede la seconda slide? Si, si, si vede. Perfetto, ok. Allora, quali sono gli obiettivi generali di stile di vita? Il primo obiettivo è quello di riuscire a aiutare la scuola e i docenti nel difficile compito. Apro una parentesi a volo. Apro una parentesi a volo. In questo periodo, nella regione Lazio, noi stiamo partendo con un programma regionale. Io lavoro all'interno di un CERT, sono responsabile di un servizio di patologie delle dipendenze. E la regione Lazio sta facendo partire in tutto il Lazio il progetto Scuole che promuovono salute, che è inserito all'interno del piano di prevenzione nazionale ed è stato recepito dalla regione Lazio. Scuole che promuovono salute è un network internazionale, europeo meglio che internazionale, di scuole che autonomamente si sono assunte la responsabilità di promuovere la salute tra gli studenti e tra il personale della scuola con tutta una serie di iniziative che possono aiutare la scuola a creare ambienti di apprendimento ed educativi il più possibile accoglienti disponibili all'ascorto in cui sia il docente che il ragazzo vada abbastanza volentieri. Tutto questo è in qualche modo una priorità che la scuola prende. Io vado dicendo sempre più ai docenti che incontro, ai dirigenti scolastici, cercate di limitare il numero di progetti alle quali aderite, scegliete soltanto quelli più importanti. Così come è molto importante School Food, le metodologie che stiamo portando avanti nella regione Lazio sono tutte basate su un approccio in cui c'è una formazione a cascata. Come regione Lazio sono stati creati dei progetti generali, gli operatori delle ASL, delle 12 ASL del Lazio sono stati formati centralmente, è stato costruito un modello centrale regionale, noi a nostra volta sul territorio andiamo a formare i docenti. Tutto questo in base al principio per cui un intervento di promozione di salute per poter effettivamente cambiare e favorire una conoscenza e rendere il cittadino competente, questo è il principio di fondo della promozione della salute, vuol dire dare delle informazioni corrette. Tutto questo deve essere fatto in maniera costante nel tempo da persone di riferimento di grande rilievo. Quindi noi da un po' di tempo abbiamo abbandonato completamente l'intervento o l'idea o l'ipotesi di fare interventi spot all'interno delle scuole. Possiamo fare la nostra porca figura, come dico ogni tanto, ma di fatto dura due giorni, non produce cambiamenti, produce in qualcuno, se va bene, interesse e rilevanza, può essere stimolante per mettere la pulce nell'orecchio. Quello che effettivamente aiuta nella vita quotidiana della classe e aiuta anche il ragazzo a poter essere nelle condizioni di scegliere qualcosa di diverso rispetto all'isolamento o alla violenza è la costanza di rapporto con una figura adulta che è coerente con quello che dice. Gli unici che effettivamente hanno questo potere sono i docenti. Quindi il passaggio è formazione dei docenti che loro a volte intervengono nelle classi con programmi e modalità o metodologie di attivazione, di inclusione e così via che possano dare a quei ragazzi, soprattutto a quelli che sono in maggiore e grande difficoltà, le opportunità di sentire che la scuola è un posto diverso e di fare esperienza di diversità a scuola rispetto a una famiglia che spesso è un gran casino. Scusate la scientificità del termine casino, però insomma mi sembra che renda meglio. Poi le chiamiamo poli con disturbi di vario tipo all'interno della famiglia, le modificazioni delle famiglie sono enormi. Quindi il secondo obiettivo di stile di vita è migliorare il clima all'interno delle classi, promuovendo partecipazione attiva e solidarietà. Dopo il Covid è ancora più necessario perché i nostri ragazzi si vede che hanno un deficit di capacità di comunicazione con l'altro e di capacità empatica verso l'altro. Per cui io credo che sia importantissimo per la scuola fare in modo che la la classe sia un organismo di partecipazione, sia l'occasione, perché a volte è l'unica occasione, che ha un ragazzo di partecipare attivamente, di sentirsi parte di un gruppo. Positivo. Però per far questo bisogna renderli attivi. Come si fa a renderli attivi e partecipativi? Sono le life skill, competenze per la vita. Adesso io faccio sempre questa polemica un po' forse sterile, però insomma la scuola italiana ha la capacità di trasformare le indicazioni che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, a proposito delle life skill, che girano dal 1993. Sono arrivate in Italia quando noi abbiamo iniziato a lavorare in tutta Italia, vi assicuro che è così, con il programma Unplugged. Erano quasi sconosciute. Il problema è che le life skill originarie sono diventate competenze per la scienza e competenze per altre cose. Quindi c'è stata una sorta di traduzione della organizzazione scolastica. Poi questi burocrati scienziati è sempre un mistero che siano e come incontrarli. La trasformazione delle life skill è diventata immediatamente una traduzione di competenze rispetto all'istruzione. E si è perso, secondo me, il carattere fortemente connesso a una missione educativa. Noi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo anche dirci la bugia che la scuola è un organismo che istruisce i ragazzi, ma di fatto c'è un enorme bisogno, un enorme necessità e se non si passa attraverso un clima educativo positivo, i contenuti non transitano. Per cui sperare di passare soltanto i contenuti senza occuparsi di relazioni, di qualità della relazione, di capacità empatica, di curare la comunicazione tra docente ed alunni, di curare la comunicazione tra i vari alunni, di gestire bene il gruppo classe. Se tutto questo non avviene, il processo comunicativo dei contenuti specifici di ciascuna disciplina non arriva. Per cui mettiamola come vogliamo, ma c'è un deficit molto grosso rispetto a questo aspetto fondamentale che fa parte della valigia del docente. Dico sempre, come psicologi e come docenti noi abbiamo degli obblighi in qualche maniera, abbiamo delle caratteristiche che fanno sì che la nostra professione sia molto particolare. Allora io credo che sia molto importante aprire una riflessione nel corpo docente rispetto a che cosa deve contenere la mia valigia del mestiere del docente. Lo dico adesso così non lo dico più, ma non posso fare a meno di dirlo. Bisognerebbe ricominciare in Italia dal processo formativo dei docenti. Credo che sia veramente una cosa inverosimile che il processo, come dire, per insegnare matematica è sufficiente un corso di studi matematico italiano, funziona allo stesso modo, è sufficiente un corso di studi di iper specializzazione in alcune delle funzioni basilari della matematica. Il problema è che a un ragazzino delle elementari o ragazzino delle medie o delle superiori tu non devi insegnare delle cose così astruse. Hai bisogno di avere nella tua valigia delle competenze che hanno a che fare con la comunicazione, che hanno a che fare con l'empatia, che hanno a che fare con la capacità di gestire il gruppo classe, che hanno a che fare con il mestiere del docente. Allora sarebbe opportuno che accanto alla disciplina, disciplina nel senso di materia, ci sia anche, tu vuoi fare docente e te tocca anche studiare psicologia, pedagogia, metodologie didattiche e non soltanto farlo come CIS, adesso non sono più tanto informato cos'è che c'è adesso, o farlo in corsi successivi. Penso che sia molto importante che ci sia all'università un corso di studi specifico per professori di italiano, matematica, scienze. Come dire, è importante che questo indirizzo verso la professione del insegnante sia curato, perché il mestiere di insegnante richiede delle capacità che sono trasversali alle materie. Siete d'accordo? e al momento questa trasversalità e le caratteristiche fondamentali del mestiere del docente vuole le acquisite sulla vostra pelle. Andando in classe è che Dio ce la mandi buona. E molti di voi ci riescono, questo non c'è ombra di dubbio. Io sto parlando però della necessità di rivedere il percorso formativo, come accade in altre nazioni europee. riflessioni su questa storia? Silenzio assenso. Vedo che in chat c'è un messaggio pienamente d'accordo. Maria Serena Renai. Ok. Mi accontento di una. L'ultimo obiettivo che abbiamo è quello di offrire l'intero progetto una serie di prerequisiti, nel senso che School Food nasce sulla necessità di curare in maniera profondita il rapporto tra alimentazione e bambini scolari, ma anche qui per arrivare a far transitare dei contenuti specifici di conoscenza rispetto al valore nutritivo del cibo, rispetto a stili di vita sani, abbiamo bisogno di ragionare e di promuovere la costruzione di una personalità. Ok? Ci siamo? Quindi quello che andremo a incontrare in questo nostro dialogo a distanza sarà esattamente questa roba qui. Allora, credo che molti di voi conoscono il manuale, per i nuovi non è ancora, o almeno credo che a tutti voi non sia ancora arrivato il manuale della quinta elementare, è fatto molto bene, per cui vi dico subito, se avete dei dubbi, se avete delle perplessità, di solito il manuale risolve i vostri problemi, c'è scritto, basta cercare. Ed è un aiuto concreto e possibile, nel senso che io oggi vi darò più o meno la struttura delle 10 unità didattiche di cui è composto lo strand o stili di vita, ma di fatto poi nel manuale sono descritti vari passaggi, c'è un po' di tutto. Io oggi concentrerò l'attenzione soprattutto sul primo aspetto, nozioni essenziali per il docente, che trovate nel manuale, e quello è dedicato esclusivamente a voi. Non è solamente la modalità di insegnamento e di promuovere questi stili di vita, è relativa al fatto di far fare esperienze ai ragazzi di alcune situazioni che sono centrate per esempio sulla conoscenza delle emozioni, sulla risoluzione del conflitto, sulla creatività e così via. Ma senza citare queste storie, si apprende facendo. Questo è la modalità. Nelle nozioni essenziali per il docente ci sono una serie di indicazioni sulla base del quale è scaturito poi col tenuto di quella particolare unità didattica. Ci siamo? Quindi io mi concentrerò soprattutto su queste nozioni essenziali. Nozioni essenziali per lo studente e obiettivi di apprendimento che possono essere il legame con i vostri programmi scolastici. C'è una descrizione della metodologia. Ci sono gli strumenti, i materiali e le risorse, vale a dire c'è bisogno di un'aula grande per poter permettere che il gruppo che si forme un cerchio o per poter permettere che ci sia la rappresentazione o una simulata. C'è bisogno delle forbici, c'è bisogno di fogli di carta 4, c'è bisogno di colori, colla o altro. Quello che vi serve per portare avanti non è una lezione, per portare avanti questa modalità di incontro fortemente relazionale all'interno della classe. Spazio e setting, di nuovo dove e come è possibile fare, dove è possibile fare. C'è un'apertura di senso. C'è poi nella presentazione che vi faccio la descrizione delle attività principali, suddivisa in fasi. Di solito è molto ben strutturata, quindi trovate tutte quante le indicazioni. Alla fine trovate una valutazione, come fare per valutare, una chiusura e un breve riepilogo di quello che è stato fatto, con una bibliografia o sitiografia. Avviso subito, per chi di voi fa per la prima volta school food e stili di vita, probabilmente noi abbiamo pensato e ritenuto che un'ora fosse sufficiente per ciascuna unità didattica. Siccome l'esperienza ci dice che un'ora può non essere sufficiente, allora abbiamo doppiato le unità didattiche, ma funziona in questa maniera. Le unità didattiche dispari sono quelle principali, dove ci sono le attività principali. Le unità didattiche pari sono degli approfondimenti. Vi consiglio di usare gli approfondimenti per completare l'attività principale, nel caso in cui non l'aveste finita, e per approfondire l'elemento che voi ritenete essere importante. Quindi vale la pena approfondirlo facendo un'altra attività, coinvolgendo i ragazzi in un'altra attività sullo stesso argomento. Quindi questa è la struttura. Quindi di fatto le dieci unità didattiche sono composte da una unità fondamentale e una di approfondimento. ci siamo? Possiamo? Allora, faccio la prima e poi ci fermiamo. Ci sono domande, osservazioni? No. Per favore, ogni tanto fatemi sentire meno solo. Vi prego. Prima unità didattica. Tutto a posto, grazie. Prima unità didattica. è una unità didattica di presentazione. Quindi di fatto qui nelle nozioni essenziali per il docente c'è un riepilogo delle metodologie o delle situazioni che useremo durante le dieci unità didattiche. E sono essenzialmente queste. Vi proporremo delle cose che hanno a che fare con la discussione di gruppo. disposti in cerchio. Qui vi chiedo, di solito spostando i banchi ai limiti della classe è possibile costruire un cerchio all'interno della classe stessa. Allora, un altro consiglio che vi do. queste unità didattiche sono basate appunto sul convolgimento, su uno stravolgimento dell'assetto della classe. Quindi si userà spesso il cerchio. Si useranno spesso tavoli separati per gruppi di lavoro. molto incentrato sul cooperative learning e vedrete che quando parlo di cooperative learning sono proprio esempi pratici di come condurre attività in gruppo all'interno della classe e di come favorire l'apprendimento. Adesso, queste metodologie sono metodologie che ho mediato dalla tradizione educativa italiana, che è ricchissima. Non mi sono inventato assolutamente niente. Tutte queste metodologie, tutti questi giochini, tutta questa roba esiste, c'è. Forse qualcosa è proposta per la prima volta, ma c'è, so che c'è in giro per l'Italia. Il problema è che non c'è una codifica e né c'è una costruzione dei libri di testo basate su queste metodologie. Per cui, se voi vedete che alcune di queste metodologie possono aiutarvi nello strutturare una lezione classica sulla storia romana in una maniera un po' diversa, coinvolgendo il gruppo di lavoro, usatela. Possono effettivamente aiutarvi nelle lezioni di ogni giorno e possono in qualche modo essere anche complementari o darvi un altro sistema di valutazione che non sia l'interrogazione e che passa attraverso l'attivazione del gruppo. Ok? Quello che io vi leggo qui rispetto a di cosa ci stiamo occupando è una serie di consigli, di attenzioni particolari da fare, di cose molto semplici che però possono essere utili. È fondamentale che anche il docente utilizzi queste modalità. Quindi il cerchio, prima cosa. L'altra storia è l'ascolto reciproco. Il che vuol dire non soltanto pretendere che l'insegnante venga ascoltato dagli alunni, ma fare in modo anche che ci sia la possibilità per i ragazzi di intervenire e che ci sia il rispetto di quello che il ragazzo sta dicendo con la classe in posizione d'ascolto. Ok? Ascolto reciproco. L'altra cosa, apprezzamento, può essere una sciocchezza. Però dire a un ragazzo sei un asino vuol dire in qualche maniera costringerlo in una posizione, peggiorare il proprio rapporto con la scuola e farlo sentire come non adatto. Un apprezzamento vuol dire aprire e lasciare aperta una possibilità e una finestra per poter recuperare. Poi ne parleremo di queste cose, dei segnali di allarme che ci sono nella scuola. Però è di fondamentale importanza, se vogliamo in qualche modo migliorare il clima all'interno della classe e nella scuola, lavorare sulle potenzialità. Non mi sto inventando niente perché di fatto tutti i programmi scolastici parlano di questo. Il problema è come farlo. Una volta facemmo una serie di simulate. Mi occupo di formazione di docenti da trent'anni, mi sape si. E ho lavorato con docenti che fanno gruppo dei pari alle superiori, ho lavorato con questo materiale con i vostri colleghi della scuola media in present e della scuola elementare. Sono un formatore unplugged accanto e ho lavorato molto anche con docenti delle scuole primarie. Quindi in qualche maniera conosco l'ambiente. Oltretutto sono anche sposato con un insegnante di scuola media. Quindi poi mia moglie mi racconta cosa succede. Abbiamo fatto una volta una simulata molto carina su cosa potesse succedere in una classe sin dal primo momento in cui il professore entra nella classe. Se la classe si alza in piedi, se il professore rivolge uno sguardo verso gli studenti, se dice buongiorno, se i ragazzi dicono buongiorno, se dice buongiorno ma resta con gli occhi bassi e non guarda nessuno, se si siede immediatamente alla cattedra, sono tutte notizie comunicative che un insegnante dovrebbe sapere di rivolgere alla classe. Sono tutte notizie che danno in qualche modo informazioni sul tipo di rapporto che esiste tra il docente e la classe. E alcune di queste informazioni sono essenziali per capire qual è il clima che c'è nella classe. Per cui noi siamo in grado, come adulti di riferimento consapevoli delle loro azioni, di poter cambiare un clima all'interno della classe. Nel senso che dire semplicemente buongiorno e fare un sorriso ai ragazzi cambia immediatamente. Piuttosto che entrare, fate silenzio e andare al posto. Immediatamente c'è una relazione. Fate silenzio e andate al posto. Immediatamente stimola quelli che sono in opposizione netta con l'adulto a non fare silenzio, a sfidarvi. L'altra modalità, il sorriso, buongiorno, vuol dire che c'è la possibilità da parte dei ragazzi di dire buongiorno e ci sarà un po' di casino. Però alla fine c'è un'atmosfera partecipe. Tutto questo ha a che fare con l'apprezzamento, ha a che fare con rivolgere domande. La partecipazione emotiva dell'insegnante è fondamentale. Se voi siete degli educatori e il clima nella classe spesso dipende da come voi impostate il clima con i ragazzi nella classe. Può non dipendere perché la classe spesso può rispondere a delle situazioni esterne che sono accadute o a un particolare stato d'animo di uno dei bambini. Se per esempio c'è stato un lutto e il bambino ritorna in classe, è probabile che ci sia un'atmosfera strana, che ci sia un certo sommovimento emotivo. Può essere molto molto importante predisporre a una situazione di accoglienza, oppure proteggere quel bambino, oppure fare in modo di parlare della morte, perché no, con questi ragazzi. Cioè provare ad affrontare delle emozioni che circolano all'interno della classe, non spezzandole, oppure non rendendosi conto, ma affrontandole, cioè dando valore alle emozioni che ci sono. L'altro aspetto, una delle difficoltà più grandi all'interno delle classi è che molto spesso ci possono essere degli alunni che ci sfuggono, sono degli esperti in mimetismo, è come se non esistessero. Allora, questo fatto di non esistere è una tematica importantissima, nel senso è una delle tematiche che può aprire la porta al consolidamento di un disturbo, alla chiusura di questo ragazzo, già chiuso di per sé, già che nasconde un dolore e una situazione emotiva poco stabile. Allora, senza spezzare con una domanda diretta, però può essere molto importante attivare il compagno, può essere molto importante a volte riuscire a creare la situazione in cui questo ragazzo possa esprimersi all'interno dei gruppi di lavoro dei ragazzi, per esempio. Cioè fare in modo che tra di loro ci sia la possibilità di considerare il fatto che quel ragazzo così isolato, ma chi sei? Che cosa fai? Vieni con noi? Partecipa con noi? Quindi di attivare il gruppo dei ragazzi nel promuovere la partecipazione attiva. Tutto questo non è fare psicologia, tutto questo è promuovere un clima positivo all'interno della classe per favorire processi di apprendimento. Non vi chiedo di essere psicologi, lungi da me. Vi chiedo di essere dei buoni attivatori del gruppo classe e di lavorare con le emozioni che girano all'interno del gruppo classe per favorire un clima positivo in cui sia possibile raggiungere dei buoni risultati. E questi buoni risultati paradossalmente hanno un buon effetto anche sulla psiche di un ragazzino fortemente disturbato per via di conflitti familiari, dove affrontare problemi familiari e dire che questa famiglia è così e io non ci posso fare niente, è diverso dal dire che questo bambino con me in classe forse ha qualche possibilità di interagire con gli altri e mi sembra che venga a scuola volentieri. È un successo straordinario da questo punto di vista. Di più forse non possiamo fare, forse non abbiamo neanche il diritto di fare, però questo aspetto può essere di fondamentale importanza perché il bambino può capire che la scuola è una mia possibilità, forse qui posso giocarmi qualcosa di più, forse il mondo non è tutto cattivo, non è fatto tutto alla stessa maniera, c'è qualcosa di diverso. Poi installare questa possibilità ha un valore educativo enorme ed ha un valore educativo spesso, perché così è, di possibilità al di là delle condizioni della famiglia. Io sono convinto che nella vostra classe ci sono ragazzi in una difficilissima situazione familiari e sentite che c'è una difficoltà dal comportamento che hanno, dalla ripetizione in classe di situazioni che accadono a casa. Allora, dare al bambino la possibilità di vedere una modalità di funzionamento di un organismo gruppale come la classe, che non sia una riproduzione di quello che accade a casa, e fare in modo che lui capisca che può giocarsi questa possibilità all'interno della classe, è un successo straordinario. E basta questo, basta... Dal punto di vista educativo dovrebbe anche esserci un miglioramento delle capacità di avere un buon voto, un miglioramento cognitivo da questo punto di vista, di conoscenza delle materie. Se c'è passaggio di questo tipo, se invece vedete che c'è una insistenza, come dire che questo bambino la cosa che fa è, arriva in classe e comincia a disturbare, comincia a fare il prepotente, comincia a imporre la propria necessità, comincia a essere violento, sta riproducendo in classe quello che succede in famiglia, spesso. Per cui rompere questo cerchiamento, questa modalità di ripetizione, è un'impresa complessa, difficile, ma possibile, e si fa attraverso un tentativo di cambiare il clima emotivo all'interno della classe, e fare in modo che questo ragazzino possa cominciare a divertirsi in un ambito diverso, in cui, per esempio, la sua convinzione che la scuola non serva a niente, che è inutile che apprenda l'italiano e continua a parlare in dialetto, possa essere smontata dalla necessità di comunicare con i propri compagni su una cosa che può essere divertente. Piccoli successi. Io sono sicuro che alcuni di voi lo fanno, sta roba qui. Si tratta di consolidare e di fare in modo che poi ci sia una partecipazione e una diffusione di pratiche tra di voi. Altra questione che vi dico, e poi ci fermiamo, è che così come avviene all'interno delle famiglie, dove la conflittualità tra padre e madre in qualche modo condizione ed obbliga i ragazzini, i figli, ad assumere comportamenti in cui si infilano nel rapporto tra madre e padre e ne imitano i comportamenti, o in qualche modo diventano molto rumorosi perché il padre e la madre non si comprendono, alzano sempre di più la voce, se vogliono esistere o diventano silenziosi e spaventati di fronte alla violenza, oppure cominciano ad alzare la voce anche loro. Quindi c'è un comportamento immediativo, l'educazione passa attraverso i modi in cui si vivono le esperienze, per cui è di fondamentale importanza riuscire a creare dei contesti in cui quanto accade a casa non ha più senso, ripeto, anche a scuola. Però per fare questo bisogna che ci sia accordo tra gli insegnanti. Un potere educativo straordinario deriva dalla concordanza di stili e di modalità e dal rispetto di alcune regole da parte degli insegnanti. Voi siete costretti a ragionare tra di voi, quindi avete ancora una fortuna. Vi assicuro che alle superiori è uno dei problemi più grandi che ci sia. Trovare il comportamento educativo del consiglio di classe. Se avete figli adolescenti vi rendete conto di quello che succede nei licei o negli istituti e dell'estrema varietà comportamentale dei docenti che condiziona pesantemente il modo di comportarsi del ragazzo in classe. Docenti buoni, docenti cattivi. È un disastro da questo punto di vista. Allora, altre cose veloci. Il diritto di passare la mano. A volte è meglio rispettare questa cosa. Evitare la derisione è importante. Il convolgimento della famiglia è un tentativo di comprendere. Mia moglie mi dice sempre Ho avuto a che fare con un bambino, ho visto che si comporta in un certo modo. Poi quando ho visto la madre ho capito cosa gli succede. Come dire, madre e figlia, per esempio, sono simili. Il comportamento del bambino è imitativo nei riguardi dei comportamenti che vede ogni giorno in casa. Ecco perché vi dico l'importante è che noi riusciamo a creare un clima all'interno della classe che sia diverso da quello che accade nelle loro famiglie. Solo così abbiamo la possibilità di far cambiare prospettiva a questi ragazzi. L'altra storia sono i valori. Sono importantissimi, sono fondamentali. Dichierateli. L'importante è che non siano valori esclusivi o divisivi. Favorire la discussione. L'altra cosa fondamentale è recuperare. Nelle vostre... Come dire, non si può fare gli insegnanti senza essere fortemente motivati, avere ispirazione e avere passione. Se avete perso la passione, come dire, avvertite i vostri colleghi. Cioè, lavorate in maniera tale che ci sia almeno un appassionato tra di voi ci sia e che l'altro non lavori a distruggere il lavoro dell'appassionato. Può succedere nella vita di ciascuno di noi di avere momenti difficili in cui effettivamente siamo talmente tanto afflitti e dolorosi che non ce la facciamo. E questo è un atteggiamento da proteggere, da difendere. Ed è fondamentale che avvenga tra colleghi e che non ci sia derisione neanche tra colleghi o un giudizio troppo spinto. Ok? Se siete d'accordo, finisco l'unità 1 e poi ci fermiamo, dai. C'era, scusa l'interruzione, prima c'era la mano alzata di Raffaella Barbato. Non so se doveva correre una domanda o meno. Sì, scusate, ma mentre ha alzato la mano è caduto giù tutto la benedetta connessione. Abbiamo pazienza. A proposito di questo che sta dicendo, io sono dell'Istituto Comprensivo Follonica 1, la scuola primaria Rodari. E ho una classe piuttosto numerosa, sono 27 bambini con una 104 importante, è un bambino autistico. Siete anche fortunati ad avere 27 bambini? o è solo una classe? Sono tutti lì. No, ecco. Sì, siamo in calo demografico. Sì, quindi avete perso classi nel tempo. Le abbiamo fatte poco numerose. No, ok. Sì, no, insomma, la prima di quest'anno è solo di otto bambini. Proprio c'è un calo a picco, anche su Grosseto, insomma. E noi abbiamo, cioè noi da sempre stiamo aderendo a un progetto che è il progetto del lavoro ben fatto di Vincenzo Moretti. Non so, ora non è il caso di parlarne, ma insomma, proprio sulla base di questo progetto noi stiamo facendo, diciamo, delle lezioni stile bottega artigiana, cioè creazione proprio insieme della lezione partendo ovviamente dall'argomento e poi noi guidando i ragazzi e proprio per eliminare anche l'impostazione frontale che purtroppo c'è perlomeno su tante materie. Io faccio matematica, per esempio, quindi frontale è ovvio che è piuttosto usuale. Però, insomma, abbiamo fatto dei gruppi che variano, che girano anche come tutor per questo bambino 104 proprio per inserirlo a pieno titolo nella classe e, diciamo, i ragazzi già dall'anno scorso perché prima erano molto piccoli lavorano proprio insieme e vengono fuori tante cose, veramente, dall'ingresso, dall'accoglienza fino all'uscita perché ovviamente loro si confidano tra di loro e vengono fuori anche le problematiche cioè noi abbiamo saputo anche di problematiche a casa proprio grazie a questo, diciamo, no? Quindi, no, volevo condividere con voi questa cosa perché sta funzionando abbastanza bene e nella grossa difficoltà di avere una classe molto, molto numerosa e molto eterogenea. cerchiamo, insomma, l'ammattimento grosso è quello di creare il gruppo equilibrato però poi la lezione viene piuttosto da sé ecco, ora non su tutte le materie, ovviamente che sono le materie che si prestano molto bene e delle materie peggio però, insomma, ecco, volevo dividere questa cosa perché mi sembra in linea, no? con quanto sta dicendo un proprio coinvolgimento della classe il più possibile dei ragazzi Scusate Grazie, maestra è come se mi stesse dicendo ai colleghi non importa se la classe è numerosa più è numerosa più c'è la necessità di attivare positivamente la classe dando responsabilità all'interno della classe l'altra cosa fondamentale nei momenti in cui si sanno delle cose che riguardano la famiglia da un certo punto di vista noi è bene che ce ne dimentichiamo nel senso non è nelle nostre possibilità salvo il caso di dover denunciare delle situazioni particolarmente gravi dove c'è violenza dove c'è fisica effettiva allora bisogna in qualche modo aiutare i ragazzi o aiutare il madre o aiutare i padri insomma lì bisogna intervenire fare in modo che i servizi sappiano però in classe non è importante questa cosa dobbiamo dimenticarla quello che possiamo fare è creare un clima inclusivo all'interno della classe fare in modo che il tempo classe sia buono che non sia come a casa ecco questo è fondamentalmente io penso che sia la missione primaria di un maestro perché quello che succede a casa non abbiamo il potere di cambiarlo è difficilissimo e in ogni caso opportuno a quel punto che intervenga anche perché poi mettersi darsi mettersi a disposizione il bambino può creare molti problemi e di conflittualità di manipolazioni succede l'ira di Dio quindi è meglio che intervengano i servizi laddove è necessario ma noi dimentichiamoci in classe quello che abbiamo saputo teniamolo da conto ma facciamo in modo di includere quel ragazzino lì e di prestare particolare attenzione a quel ragazzino perché ci rendiamo conto che in quel momento la scuola per lui è l'unica opportunità che ha questo mi sembra che può essere la missione della scuola che è una missione antica vecchia che è quella di recuperare proprio le persone che sono maggiormente a rischio senza di dimenticare i brai ma facendo in modo che i bravi siano almeno solidali e siano un'opportunità anche per gli altri unità 1 veloce gioco del comitolo oppure up and down gioco del comitolo penso che la maggior parte di voi lo conosca comunque la maestra ha un comitolo tiene un capo dice si presenta velocemente e dice di sé alcune cose che riguardano dei propri piaceri delle cose che gli piace fare si passa il comitolo a un altro dei bambini qualsiasi il bambino ripete dice di sé e che cosa gli piace mantiene un capo e passa il comitolo alla fine viene fuori una ragnatella enorme tutti i bambini si sono presentati e hanno raccontato di sé alcune caratteristiche che non hanno a che fare con le capacità all'interno della classe ma di quello che gli piace fare esattamente c'è anche un ritorno si regomitola e la persona che invia il comitolo da cui l'ha ricevuto poi dovrà ricordare dell'altro il nome e alcune delle cose che ha detto e così via fino a non rianudare se l'avete fatto il comitolo negli anni scorsi c'è up and out una pallina e la pallina circola e ciascuno che riceve la pallina dice di sé il motivo per cui in questa giornata io mi sento bene sono contento è uno dei motivi di preoccupazione che ho in questo giorno è una maniera anche qui di creare relazioni e di parlare di emozioni la fase 2 è rivedere il contatto di classe se l'avete già fatto negli anni passati che cos'è il contratto di classe è l'accordo in base al quale i ragazzi della classe hanno stabilito il loro comportamento le regole di comportamento durante il programma Steel Food può anche diventare il contratto della classe quello effettivo al di là del regolamento di istituto del regolamento generale della scuola può anche essere l'accordo specifico che regola la vita all'interno della classe che può essere si ascolta non si interrompe quando parlano gli altri non si usa il cellulare si rispetta l'altro non si offende vedere il contratto di classe è un momento in cui voi siete alla lavagna e scrivete le regole che i ragazzi ripongono e andate a ricostruire insieme con loro una priorità e a raggruppare le varie storie quello è il contratto di classe il contratto di classe viene firmato dal docente e da tutti i ragazzi della classe se ce l'avete già potete stimolare nella classe una discussione ha funzionato dobbiamo integrarlo dobbiamo rivedere alcune cose cos'è che è successo quando ci siamo resi conto di non riuscire a rispettare il contratto di classe quindi stimolare una discussione su cose che sono accadute in classe che sono andate contro quel contratto oppure sulla necessità di rivederlo ok questo è l'unità 1 ci fermiamo per 10 minuti allora modulo 2 promozioni di stile vita sani appunto rafforzare l'assertività e la capacità di resistere alle cattive influenze qui inizia tutta una serie di modalità di interazione di gruppo nel tentativo di costruire una gruppalità sana mettiamolo in questa maniera dove il confronto tra pari sia stimolante e che ci sia un confronto su delle regole chiare condivise e sane quindi parliamo di cooperativi learning di fatto quindi nelle lezioni essenziali per il docente c'è riferimento alle life skills sono 10 l'elenco lo trovate lì è inutile che ve lo stia dire io però di fatto le life skills sono competenze per la vita sono tutte quelle precondizioni che sono essenziali per la formazione di una personalità il più possibile completa e sana stiamo parlando di ragazzini di 10 anni stiamo parlando di situazioni in cui alcune competenze non sono ancora perfettamente sviluppate ma c'è una capacità empatica molto forte poi parleremo delle emozioni la didattica inclusiva è un affondamento di tutto questo di tutto quello che ho detto fino adesso il cover del learning sarà uno strumento molto molto utile per creare delle condizioni di adattamento all'interno delle classi adesso io stavo pensando una classe di 8 apparentemente potrebbe essere la classe perfetta riferendomi a quello che diceva prima la collega è colpa di nessuno c'è un calo demografico pazzesco per cui ci sono classi in alcune piccole realtà soprattutto di piccoli paesi dove vi potrete ritrovare con classi molto piccole da un lato potrebbe essere una buona occasione dall'altro però un gruppo così piccolo in qualche modo compromette alcune delle funzioni vitali nel senso che se sbagliate qualcosa può esserci una forte positività da parte della classe oppure ci possono essere delle cose di esclusione bisogna vederle bene ci sono delle e anche è una questione delle vostre abitudini siete abituati nel corso del tempo ad avere a che fare con classi numerose ritrovarvi con classi con pochi bambini può anche farvi diminuire il livello di attenzione dipende quindi bisogna adattarsi anche a questo vi do un'informazione a proposito di questo del quanti alunni per classe è molto importante che sia un gruppo come dire da 15 a 20 25 sono già tanti da 15 a 20 sarebbe perfetto bisognerebbe approfittare del calo demografico per diminuire il numero di alunni per classe quando il calo demografico è così grande da arrivare a 8 diventa un problema stiamo lavorando in un istituto superiore con il progetto sulla dispersione scolastica ne parlo perché lì addirittura si è arrivati a ipotizzare interventi su bambini non so l'arrivo in prima media di ragazzini che in qualche maniera già presentano delle difficoltà quindi segnalati la con l'accordo della famiglia e tramite un processo di informazione alle famiglie c'è la possibilità di intervenire su questi ragazzi con gruppetti massimo di tre bambini per recuperare le competenze di base allora una delle cose essenziali con cui stiamo lavorando in una scuola dove c'è questo progetto dove si è deciso di intervenire su questi ragazzi utilizzando gli stessi docenti della scuola non consulenti esterni ma gli stessi docenti si è pensato di stimolare come dire sin dall'inizio di stimolare i ragazzi con una modalità poco usuale non facendoli sentire già in classe ma lavorando su un un incontro emozionalmente significativo tra i ragazzi ecco nei gruppi molto piccoli possiamo lavorare approfonditamente sulla conoscenza delle emozioni per esempio anche sui contenuti didattici ma possiamo lavorare in maniera più spedita su un clima nella classe il più possibile positivo un giochino molto semplice utilizziamo può esservi utile quando i bambini sono molto pochi ma anche come dire potete usarlo anche quando sono numerosi perché si va a coppie coppie assolutamente casuali uno schiena all'altro permettete ragazzi di raccontarsi cosa faccio chi mi sento di essere come sto di dare queste tre informazioni due minuti di ascolto reciproco tra di loro prima parla l'uno poi parla l'altro di solito questo succede anche con i docenti quando l'abbiamo fatto con i docenti sono venute fuori delle cose molto positive migliora immediatamente il clima c'è la possibilità di chiarirsi sembra una sciocchezza però di fatto questa attività di ascoltarsi soltanto il suono della voce senza che ci sia lo sguardo verso l'altro è una modalità che funziona funziona nel migliorare i rapporti tra i ragazzi stessi perché poi può essere fatto cambiando le coppie come diavolo volete e instaurando un clima di possibilità di racconto è molto forte ok questo è uno stimolo ulteriore che vi do che dice il modulo 2 allora parliamo di assertività mantenere un'opinione informarsi direttamente e informarsi direttamente qui si comincia a lavorare su simulazioni cominciamo a fare in modo che di lavorare sulle situazioni concrete stimolando i bambini a entrare in una in gioco di recita in una piccola recita da fare assegnando dei ruoli e delle funzioni lasciando che poi accada questa recita e osservare quello che accade come dire qui diamo dei compiti aiutiamo i ragazzi a operare una situazione che in noi adulti insegnanti psicologi è abbastanza frequente quasi sempre voi siete da un lato dentro quanto sta accadendo in quel momento in classe e al tempo stesso quanto più funzionate tanto più riuscite ad avere una parte di voi staccata da quello che accade che vi permette di osservare e di non essere completamente assorbiti da quella situazione tanto da perdervi nel contenuto emozionale ok vi è chiaro quanto dico spero di sì quello che si cerca di far fare ai ragazzi è ok costruiamo una situazione stiamo assolutamente recitando nessuno dei ragazzi nella recita viene chiamato con il proprio ruolo dovreste essere attenti anche a fare in modo di dare ruoli diversi da quello che di solito i ragazzi vivono se c'è uno che interviene costantemente può essere la persona che nella situazione simulata può essere la vittima di un bullo per esempio cioè di far fare la parte opposta cioè di essere colui il quale in questa situazione viene stimolato a commettere ad avere un comportamento di forme da quello augurabile tutto questo serve a prendere esplicito quello che spesso avviene nei loro gruppi le regole all'interno dei vari gruppi da un altro punto di vista c'è la necessità di appunto riaffermare una propria opinione e nel mantenerla l'importante è che questa opinione sia costruita non su credenze ma su l'informazione diretta allora in quinta elementare può accadere che cominci a esserci si spera di no ne so l'approccio alle sigarette oppure la delisione verso altri e allora entrare a far parte di uno scherzo e ritenere che non bisogna offendere gli altri e resistere alle tentazioni di entrare a far parte di uno scherzo e di denigrare qualcun altro e dicendo no ecco dobbiamo aiutare il ragazzo a dire di no nell'entrare in una situazione gruppale negativa e non vedersi costretto e rispondere in maniera appropriata in quella situazione in maniera tale da restarne fuori e in maniera tale da rompere quell'assetto del gruppo in cui il cattivo di turno diventa protagonista si esibisce nei riguardi degli altri gli altri riconoscono in qualche modo la leadership negativa di questa persona c'è una vittima designata e degli spettatori che fanno da contorno con un effetto amplificatore enorme che mette a rischio ancora di più la vittima perché stimola il carnefice nel andare sempre di più soprattutto se la vittima si esprime con la paura il branco e le e gli stupri si fondano su questi stupri di gruppo si fondano su questo principio dove c'è uno che è il capo in qualche maniera che detta le regole che sotto che in qualche modo oltre che sottomettere la vittima di turno esercita un potere esercita il proprio potere nel far fare agli altri il suo stesso atteggiamento e la sua stessa modalità e spesso può accadere che qualcuno all'interno del gruppo per compiacere il capo sia ancora più violento del capo stesso quindi a volte accadono cose di questo genere qui forti sensimenti di emulazione quello che tenta di fare questa modalità è di inscenare una scenetta poi lo vedrete nel manuale qual è la situazione che vi suggeriamo di avere sono situazioni molto semplici in cui c'è sempre una convinzione una festa da poter fare e c'è qualcuno che tende a entrare nella festa portando un comportamento deviante porta una bottiglia di birra oppure fumare una sigaretta o cose di questo genere a dieci anni non avviene questo ma c'è questo tentativo di rompere siamo in una festa voglio fare una cosa divertente e che abbia dei limiti in cui possiamo divertirci senza che nessuno si faccia male arriva qualcuno che propone immediatamente uno scherzo pesante un atteggiamento che mette a rischio tutto una oppure semplicemente un tentativo di imporre la propria capacità di mettersi al centro dell'attenzione e il protagonista che deve cercare di trovare in sé le motivazioni per riaffermare no in casa mia questa roba non si fa i miei genitori non vogliono che io lo faccia e neanche a me piace farla per cui o ti adegui a quello che stiamo facendo oppure per favore te ne vai può essere questa in ogni maniera come mantenersi fermi l'assertività è questa e noi con questa modalità cerchiamo di proporre quello che in qualche modo è una una capacità di affermare se stessi nel positivo ok questo è il modulo 2 vi è chiaro quello che si cerca di fare quindi tutte le esperienze promosse si basano su questo principio sperimento osservo valuto entro dentro una situazione e al tempo stesso la osservo in maniera tale da rendermi conto di come funziona di quello che può spingermi a fare una cosa piuttosto che un'altra e di come posso in qualche modo fermarmi di fronte a una cattivazione ci siamo ed è opportuno come accade in tutte quante le nostre storie una volta che noi facciamo una simulata e proviamo a lavorare su questi contenuti è importantissima la riflessione finale di gruppo è importantissimo che si chieda al ragazzino che ha recitato la scena come sei stato come ti sei sentito come è che che cosa ti ha colpito e ti stava per farti capitolare di chiedere all'altro quello che in qualche maniera provocava come ti sei sentito che cosa provavi nel momento in cui svolgevi questa questa recita e poi passare agli osservatori cosa avete potuto notare vi siete resi conto del movimento del corpo delle parole usate e eventualmente anche cosa avreste potuto suggerire per fare in modo che la situazione volvesse in maniera differente in tutte queste simulate c'è un canovaccio e poi si lascia che l'azione si svolga sperando che le cose vado a buon fine ma spesso può anche succedere che vince il trasgressore e allora è opportuno fermarsi a riflettere e provare a rifare la scena in maniera tale che la persona che è stata attaccata in qualche modo attaccata nel senso che è stata a cui è stato proposto un comportamento di forme alle proprie convizioni possa rimanere fermo nelle proprie convizioni quindi è fondamentale l'intervento della maestra e riuscire in qualche modo a dare suggerimenti positivi non fare la morale farla vivere ai ragazzi dare suggerimenti in maniera tale che loro possano capire e rendersi conto delle potenzialità che hanno nel rispondere a un comportamento provocatorio o nel riaffermare le proprie convizioni e se non sono così convinti di cercare di informarsi su queste cose vi è chiaro? qui a volte c'è stato qualche discussione sul fatto ma è troppo presto a dieci anni e recitare sono capaci andate tranquilli lo fanno e poi in ogni caso le situazioni che vengono proposte sono le situazioni in cui si trovano ok? probabilmente non succede tutte quante hanno a che fare con contesti fuori dalla scuola e appunto per questo li aiutiamo a quello che succede fuori dalla scuola hanno a che fare con le feste tra di loro hanno a che fare con andare a giocare a pallone o altre cose di questo tipo o fare una gita insieme domande curiosità buongiorno a tutti volevo condividere con voi proprio queste dinamiche che lei descriveva erano a riguardo dell'assertività erano state poi indicate anche lo scorso anno durante un corso di formazione sul bullismo e sul cyberbullismo ed erano proprio le dinamiche che lei descriveva proprio all'inizio cioè il fatto di essere consapevole che io posso dire no il fatto di chiedere aiuto l'importanza di chiedere aiuto di chiedere l'intervento di un adulto proprio rispetto a quello che io ritengo che in quel momento non voglio fare e nel caso di una scuola primaria in quinta elementare mi viene in mente il momento del gioco libero in giardino dopo la mensa dove magari voglio costringere il mio compagno a fare un tipo di gioco che lui non vuole fare e quindi ho rivisto queste similitudini grazie mi sta confermando esattamente quello che dicevo prima nella scuola queste cose passano il problema è rendere effettiva all'interno della classe quindi questo dovrebbe aiutarvi a tenere sotto controllo a proporre e a lavorare con i vostri ragazzi per fare in modo che possano resistere alle tentazioni negative altri interventi ok mano a mano diventa sempre più complesso un'altra avvertenza allora le dieci unità didattiche sono costruite con una sequenzialità logica attenetevi a questa sequenzialità perché di fatto è come un passaggio da una cosa all'altra l'una cosa richiede che ci sia stata attenzione a quella che la precede per cui attenetevi a questa sequenza di eventi allora il modulo 3 ecco questo è un bel casino qui dovreste un attimino sbilanciarvi rispetto al fatto che effettivamente si possa parlare in tasse sull'identità di genere vale a dire in questi giorni è uscita fuori questa storia del comportamenti devianti per cui il governo ha pensato bene di inaspirire le sanzioni piuttosto che rafforzare il sistema educativo e sociale di protezione dei minori come se problemi di ordine sociale siano diventati problemi di ordine pubblico è una maniera di risolvere le cose ma non è quella migliore secondo me sarebbe molto più importante rendersi conto che abbiamo bisogno di costruire un'identità di genere sin dall'inizio sin da quando i ragazzini sono piccoli in maniera tale da non creare mostri e in maniera tale da riuscire a smantellare quella modalità di intendere l'essere maschio o l'essere donna che passa attraverso l'affermazione di sé violenta so prevaricatrice basata su una pretesa che i propri sentimenti siano rispettati a priori e come se non esistessero i sentimenti degli altri e le emozioni degli altri tutto questo ha a che fare con la concezione del maschio ha a che fare con una diffusa purtroppo permanenza di un modello maschile violento di sopraffazione e così via io dico sempre in qualche misura l'Italia e il mondo è stato attraversato da un movimento femminista per fortuna che c'è stato perché in qualche misura c'è stato bisogno il voto alle donne è avvenuto soltanto nel secondo dopoguerra ricordatevi questo quindi la società italiana è ancora fortemente impregnata di un contenuto maschile molto molto forte c'è ancora la necessità di costruire un modo di essere donna e un modo di essere maschi che sia condivisibile che sia adeguato che sia rispettoso virilità dolce si parlava ma c'è stato un movimento femminista e per fortuna che c'è stato che ha rivendicato un'azione di sostegno e di parità di diritti delle donne poi sto parlando con io non so quanti maestri maschi ci siano nella scuola elementare o che ci stanno sentendo in questo momento ma la stragrande maggioranza di voi è donna quindi se mi permetto di essere provocatorio se i nostri figli maschi sono violenti approfittatori in qualche modo legati a un modello di prevaricazione verso la donna ne abbiamo una grande responsabilità forse avremmo dovuto crescerli con un modello di essere maschi in maniera diversa di non essere maschilisti di essere maschi e di acquisire un'identità di genere maschia ma fondata su una virilità dolce non so come altro definirla nel senso che non c'è bisogno di snaturarsi c'è bisogno di riconoscere la propria essenza noi i maschi sono profondamente ignoranti su che cos'è il corpo mentre la donna la ragazza è costretta dalla propria conformità ad entrare in contatto con il proprio corpo molto presto a subire per certi versi una trasformazione fisica vistosa ed evidente che costringe anche a riflettere che mi sta succedendo è un contatto col corpo grande il maschio non ce l'ha ha un coso tra le gambe con tantissime fantasie con tantissime situazioni che non si capisce bene non riusciamo a parlarne o quando se ne parla facciamo pornografia oppure facciamo ostentazioni di capacità sessuali c'è un dibattito attuale che parla di quanto possa essere deleterio anche anche se non mi scomenta quello insomma alla fine i film porno sono film in cui una la dà con grande gioia e un altro fa il maschio potente il tutto dura dieci minuti in quarto d'ora mezz'ora dice magari un maschio durasse così tanto nell'atto sessuale però è come se il maschio dovesse essere come quello stallone lì un enorme coso che dura nel tempo e la donna che gode da paura ma quando mai sfatare questo mito è difficile e per il maschio avere questo modello è un modello distruttivo perché in ogni caso non sono abbastanza virile non sono abbastanza forte scusatemi se parlo di sta roba qui però insomma essendo maschio l'ho vissuta e so che tutto inizia a dieci anni a undici anni a dodici anni quindi sarebbe opportuno non è da un lato è l'identità sessuale dall'altro è cominciare a ad avere come dire ma perché insomma i regali che diamo ai nostri ragazzi sono le armi e barbie se diamo le armi e barbie quindi l'uomo è soldato l'uomo è combattente l'uomo è violento l'uomo può uccidere se diamo barbie è la donna deve essere bella deve essere perfetta deve essere piacente deve avere la minigonna deve usare le proprie il proprio aspetto per sedurre ci sono tutta una serie di cose mi dicono che il film barbie da questo punto di vista potrebbe persino essere interessante però non l'ho visto se qualcuno di voi l'ha visto me lo dica vi invito a partecipare quindi di fatto io non so come ve la cavate rispetto all'identità di genere e l'educazione affettiva però credo che sia opportuno avevo pensato di farlo alla terza elementare sono stato fermato quindi quinta elementare per me è già tardi però insomma sarebbe molto importante quindi nelle nozioni essenziali per il docente l'importanza della costruzione educativa dell'identità di genere come essere donna quali modelli ci sono per essere donna quali modelli per essere maschio e qui ci sono delle riflessioni a non finire cosa poter fare a scuola quindi c'è anche questo discorso da fare non c'è dubbio che riguarda la scuola perché in ogni caso anche nei nostri libri di testo c'è un riferimento al potere maschile e al non potere delle donne per esempio c'è una storia tutta al maschile per esempio c'è una letteratura quasi tutta al maschile per esempio c'è una negazione del fatto che le donne possono occuparsi di scienze per esempio quindi è un tema che riguarda la scuola sicuramente ed è un tema che riguarda ciascuna di voi l'ultimo tema è la promozione della salute come strumento di prevenzione dei disturbi dell'affettività nella considerazione dell'altro e nella consapevolezza del proprio corpo allora un altro tema molto molto interessante che riguarda proprio il corpo è il fatto che voi dai 6 ai 10 anni cominciate a vedere le trasformazioni fisiche sotto i stessi occhi allora ad ogni passaggio di conformazione fisica dovete in qualche modo essere consapevoli dal fatto che c'è bisogno di una ristrutturazione della percezione di sé che avviene in ciascuno dei ragazzi e che mano a mano si adegua rispetto alle grandezze che assume il proprio corpo alla capacità di mantenere una distanza voi cominciate a vederlo questa roba nel senso che vi crescono sotto gli occhi e vi rendete conto di come mano a mano se crescono troppo cominciano ad essere molto goffi non sanno proprio che farsene non hanno più le misure del corpo allora potrebbe essere importante aiutarli ad avere delle misure perché queste tempeste ormonali che iniziano già da voi hanno delle ripercussioni su livelli d'attenzione hanno delle ripercussioni su alcune cose fondamentali e sulla capacità di percepire l'altro sempre in questo percorso formativo con i docenti di quella scuola di cui dicevo prima ci sono state alcune docenti di matematica che hanno stanno sperimentando mi sembra una cosa molto molto interessante di far conoscere la matematica attraverso i movimenti del corpo per cui la campana per cui addizioni e sottrazioni proprio usando il proprio corpo come dire l'esperienza diretta attraverso se aiuta a far permanere alcuni concetti essenziali mi sembra una cosa molto molto interessante di sicuro ci sono degli esempi notevoli ditemi a volo secondo voi è troppo presto o troppo tardi per parlare di educazione di genere e soprattutto ve la sentite perché questo è l'altro tema molto molto grande da come ve lo propongo non vi preoccupate non è educazione sessuale assolutamente no è costruzione di un'identità di genere e la possibilità di affrontare per esempio le materie scolastiche da un punto di vista della donna e da un punto di vista del maschio proponendo anche una sorta di mettersi a posto dell'altro ok quindi non è educazione sessuale non è però è una introduzione a un tema della parità di diritti e dei generi ok posso intervenire certo io penso che sì ma andrebbe anticipata perché comunque la formazione di genere avviene molto prima già dai primi anni della vita del bambino nel momento in cui si presentano certi giochi o certi atteggiamenti già c'è un'indicazione di genere notevole e anche nei nostri libri infatti ci sono delle indicazioni di genere fuorvianti rispetto a quella che tant'è vero che dovremmo scegliere i libri di testo in base anche a questi criteri al criterio anche di no di testi che presentano un certo tipo di atteggiamento nei confronti anche del genere sarebbe importante anche questo per iniziare proprio un discorso già dai primi anni però anche perché la famiglia ha una impronta notevole su questo vi ho fatto una domanda specifica se ve la sentite nel senso che rispetto a questa proposta delle terze elementari ho avuto la netta impressione che ci sia stata una resistenza non dei ragazzi di voi dei docenti come dire è un tema che nonostante il fatto il processo educativo in Italia avviene soprattutto attraverso le donne si fa una fatica molto grande nel poter proporre una modalità di essere maschi e femmine con pari diritti ed è paradossale questo conveniente? sono d'accordo sono d'accordo dovremmo cominciare prima molto prima e trovare coraggio per io spero di darvi delle come dire delle possibilità che sono appunto non è educazione sessuale è costruzione educativa dell'identità di genere sul come poter essere maschi e su come poter essere femmine e di come essere maschi e essere femmine è una diversa identità ma comporta pari diritti e non immaginare che l'essere maschio comporta la possibilità di picchiare una donna per esempio e questo l'ha costruito molto presto certo certamente comunque il coraggio soprattutto nell'affrontare questi discorsi facendoli capire alle famiglie perché non sempre è facile che per le famiglie come dire e qui siamo come quello che dicevamo prima a volte non è nel nostro potere poter far variare e cambiare l'atteggiamento familiare è il nostro potere fare in modo che determinate regole siano rispettate all'interno della classe quindi è molto importante riprendere un bambino quando si ah voi donne non valete niente cioè quando si riproduce in classe l'atteggiamento maschilista ok quando immagina e pensa di poter prevaricare una donna o al contrario quando una donna utilizza il peggio della cultura maschile per proporsi perché anche in questo è terribile da questo punto di vista come dire la risposta può essere una risposta vendicativa dello stesso tipo del maschio e sicuramente ne sta avvenendo fuori di grandi da questo punto di vista da un lato è un segno di cambiamento dall'altro è una permanenza di atteggiamenti e comportamenti che sono violenti e quindi come tali non vanno perseguiti che poi sia una violenza femminile può essere più giustificata di una violenza maschile no non è così tutte e due sono assolutamente riprovevoli e bisogna essere attenti a non fare in modo che essere donna avere gli stessi diritti diventa violento quanto il maschio ci siamo sì scusa posso intervenire certo ci sono io ho una classe oltretutto prevalente di femmine e già la sento malissimo quindi insomma tutto insieme è una cosa magari non abbiamo capito quello che hai detto perché è sparito la connessione anche a fiancana lo scrivo c'è qualche problema di connessione quindi ci è arrivato a tratti il suo intervento non si è capito nel complesso ma perché appunto c'è la connessione che va e viene quindi non abbiamo potuto condividere molto sì scrivo allora provo a illustrarvi questa roba qui quello che vi proponiamo allora allora nell'apertura appunto fare un discorso introduttivo sulle differenze di genere che esistono che sono salutari che sono importanti da riconoscere nel rispetto generale i ruoli professionali la situazione italiana ci sono dei riferimenti rispetto a quello che accade in Italia rispetto non siamo un paese molto attento alla non c'è parità di diritto c'è una parità di diritto anche economico nell'istituto c'è una fortissima competitività per cui di fatto la gravidanza è un ostacolo molto serio alla possibilità di fare carriera per le donne nel privato c'è un riferimento anche all'obiettivo 5 degli SDGs degli obiettivi di sviluppo sostenibile l'obiettivo 5 è la parità di genere quindi ci sono tutta una serie di dati che potete citare quello che vi proponiamo è questo un copito individuale a metà classe disegna una donna e scrivi tutte le cose che secondo te può fare e quelle che non può fare e perché all'altra metà della classe qui se siete fortunati avete metà uomini e metà donne potete fare questo gioco di differenza cioè ai maschi chiedete di disegnare la donna e di dire quali sono le cose che una donna può fare o non può fare e alle ragazze chiedere di fare esattamente il contrario disegna un uomo e scrivi tutte le cose che secondo te può fare e quelle che non può fare e perché ok quindi provate a mettervi nei palli dell'altro usciranno fuori delle cose molto importanti dove ciascuno presenta i propri lavori e c'è una discussione nel dire l'astronauta può farlo soltanto il maschio e la Cristoforetti dove la mettiamo quindi è proprio un gioco a smontare una convinzione credo che siano pochissimi i mestieri esclusivamente maschili e i mestieri esclusivamente femminili da questo punto di vista c'è una parità di genere nei fatti confermata però rimane sempre questo pensiero che c'è una differenza sostanziale alcune cose può farle soltanto il maschio alcune cose può farle soltanto la donna la prima il primo effetto rispetto all'identità di genere è guardate che abbiamo gli stessi diritti e le stesse possibilità e quindi smontare queste convinzioni per cui dopo la discussione il compito è che differenza ci sono tra te e un maschio rispetto a una ragazzina che differenze ci sono tra te e una donna rispetto a un ragazzo racconta e se vuoi disegna è il contrario quindi come dire accendiamo la discussione tra di loro in cui noi ci rendiamo compi e tra le ragazzine e proviamo a smontare queste cose poi tutto questo ha delle ripercussioni fondamentali e delle possibilità operative molto molto interessanti nel senso che potrebbe cominciare a svilupparsi un'idea di ricerca documentata di tutti i mestieri nelle quali ci sono anche delle donne di tutte le pittrici italiane del mondo delle pittrici donne protagoniste al femminile della storia di donne che hanno avuto successo quindi portare gli esempi al femminile la storia è quasi sempre maschile è una storia di guerra però sarebbe importante anche nella guerra pensare al ruolo che hanno avuto le donne a quanta sofferenza hanno accumulato e a che cosa facevano le donne durante il periodo di guerra quanto raccontate di storia ha sempre a che fare con conquiste guerre lotte di potere quasi sempre maschili e le figure femminili erano mogli qualche volta emerge qualcosa di diverso però può essere interessante concentrare l'attenzione sulle figure femminili e fare in modo che ci sia una storia anche al femminile c'è una storia sociale del femminile che è enorme e che rappresenta la continuità culturale di una nazione una delle cose che dico sempre è che per la miseria io sono nato come dire ho la mia concezione di maschio in questa maniera però nella mia vita io ho incontrato la maggioranza dei miei insegnanti era una donna e com'è che sono uscito fuori come maschio così strano perché non ho avuto la sensazione che ci fosse un ruolo un'importanza un aspetto storico e sociale fondamentale della femminilità come dire dietro ogni mostro c'è una mamma e se la mamma ha creduto di poter curare il proprio figlio come essere eccezionale e come un gioiello da poter esporre nelle sue convinzioni per cui l'ha creato forte sicuro e stronzo la responsabilità della mamma è molto grande perché avrebbe potuto lavorare in maniera molto accorta per farlo diventare una persona sì forte ma una persona dolce una persona convinta delle proprie cose ma rispettosa ne possiamo parlare ma di fatto questa costruzione dell'identità di genere va messa in risalto proprio con un'evidenziazione del ruolo femminile in diverso modo di intendere le donne all'interno della società non solo come sante mamme ma come protagonisti attivi di una storia ci siamo ci siete? vi chiedo di come dire di evidenziare anche le vostre storie particolari voi siete tutte quasi tutte insegnanti ma anche mamme molti di voi hanno figli maschi molti di voi hanno figli femmine e sono molte di voi sono anche preoccupati su come stanno crescendo stessi figli maschi e stessi figli femmine che prodotti stanno venendo fuori ecco approfittiamole per renderci conto anche di quello che vogliamo e di quello che abbiamo creato per certi versi no sono interventi? allora facciamo una cosa parlo del modulo di consolidamento qui c'è tutto un discorso sulla valutazione su alcuni strumenti come dire il valore del giudizio il senso la violenza la violenza di genere la violenza psicologica avere ben idea di quello che sta accadendo e di una difficoltà che è evidente dove questa difficoltà non la possiamo affrontare facendola diventare come dire ordine pubblico non si cambia niente va tutto bene quelli che non vanno vanno puniti o al contrario lavorare sin da piccoli in maniera tale da creare un sistema educativo che crei e che permetta a questi ragazzi di vivere se stessi in un contesto non violento e di come si possa correggere eventuali errori educativi su questa seconda attività storia al femminile questo è il proseguo dell'attività precedente la storia al femminile appunto si utilizza cerchio l'insegnante chiede alle alunni quali mestieri sono emersi dall'unità precedente che sono sembrati essere più adatti ai maschi devono emergere 4-5 mestieri si suddivide in maniera casuale la classe in 4-5 sottogruppi e si assegna a ciascun gruppo uno dei mestieri ok? ci siamo? ricerca di fonti e storie sul mestiere potete anche fare in modo che possano utilizzare tablet nel senso devono proprio andare a cercare la figura femminile rispetto a questi mestieri qua quali sono gli esempi femminili di questa storia e l'altra fase è costruzione di un articolo sulla donna protagonista del mestiere ok? scriviamola questa storia presentazione in plenare dei lavori e pubblicazione mi sembra interessante una cosa di questo tipo come vedete non stiamo parlando di identità di genere sessuale non stiamo parlando di educazione sessuale quella sarebbe opportuna farla ma non ci ho provato neanche stiamo parlando di identità di genere e di pari dignità un'attività di questo tipo vi sembra utile anche c'è la possibilità di utilizzare tablet di stimolarli nella ricerca attiva di protagonismo femminile ci sono nel 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 manuale poi trovate dei riferimenti a volumi che possono fornirvi idee sul protagonismo femminile sarebbe anche molto interessante sviluppare una riflessione del ruolo della donna nella guerra e del perché una donna debba accettare che proprio i figli vadano a morire in guerra che è una cosa terribile è così stupida la guerra madonna un'altra delle cose dove si riafferma un'identità maschile violenta di sopraffazione e quando più il potere maschile si sente in difficoltà voi immaginate chi è Putin e come sta risolvendo e sta trascinando il proprio popolo in un'identità di genere in un'identità di popolo guerra fondaglio violento di sopraffazione di supremazia è terribile l'operazione culturale che sta facendo il ritorno indietro nel tempo di riportare la guerra in Europa io credo che sia anche una maniera di affermare il potere maschile sulle donne c'è una fottuta paura del maschio di poter condividere e togliersi da questa situazione di potere e il modo che io affermo il mio potere di maschio è scatena una guerra che è la cosa più maschile che ci sia pensateci ci fermiamo dieci minuti e poi riprendiamo da questa provocazione che vi ho fatto ok anche e soprattutto se condividete questa storia del potere maschile che si riafferma nei periodi in cui c'è la possibilità di fare un passo in avanti di progresso di civiltà ok a tra poco allora se siete d'accordo riniziamo però vorrei alcune riflessioni da parte vostra rispetto a quello che vi ho proposto mi rendo conto che rispetto alle aspettative che avevo creato le attività sono invece molto più tranquille sono accettabili e mi farebbe piacere anche sapere se può essere utile lavorare in futuro su una più chiara identità sessuale basata anche sulla conoscenza del corpo tenendo conto che i nostri maschietti del proprio corpo non sanno niente ma veramente io ancora adesso sono ignorante sul mio corpo in maniera provocatoria ho visto un materiale che hanno affrontato in un manuale creato in Repubblica Slovacca scusatemi proprio sull'identità di genere è scoppiato un gran casino anche lì però insomma c'è una pagina che mi colpiva molto e che però aveva un profondo significato come dire al di fuori della pornografia in questa pagina si vedevano rappresentati le varie forme possibili di un pisello di un pene e le varie forme possibili di una vagina sembra una sciocchezza però di fatto è come ragionare sul fatto che anche lì non siamo tutti uguali e che ciascuno è dotato di particolari forme e per quanto riguardano i maschietti lavorare sulle forme del pisello è fondativo di un'identità purtroppo siamo messi così e possono mentre favorire una consapevolezza di come è fatto un organo sessuale senza entrare nello scandalo senza bisogno della pornografia o del racconto di Danciano di imprese sessuali può essere molto utile per mitigare paure e per permettere di fare considerazioni sul proprio corpo di quella parte che è sempre tenuta nascosta all'altro che effettivamente ha a che fare con il sesso ma che è parte componente essenziale del nostro corpo e quella paginetta con come sono fatte le pagine come sono fatti i peni a me è sembrata utilissima nel senso che poi è ok ci sono tante variazioni non tutti siamo uguali ma tutti hanno i stessi diritti e il diritto alla diversità anche può essere una cosa molto molto importante anche per toglierla dal dominio del peccato ditemi io volevo condividere cioè condivido appieno quello che lei dice non a caso avendo fatto diverse volte scienze in quinta i ragazzini fin dall'inizio dell'anno scolastico magari capita che si distraggono durante una lezione di un altro argomento e capita spesso che magari uno degli argomenti che loro vanno a sfogliare vanno a guardare a volte poi si guardano tra sé e ridacchiano e proprio l'apparato riproduttivo e quindi questo ci dà proprio il monito di che cosa del fatto che veramente sarebbe importante pensare fin dall'inizio dell'anno oppure come diceva lei addirittura fin dalla terza elementare proprio a dare a loro i primi approcci del proprio corpo della conoscenza del proprio corpo e poi un altro argomento secondo me che sarebbe importante già fin dalla scuola primaria trattare è proprio quello che significa il consenso io a me di recente l'emozione affettiva insomma esatto il consenso che cos'è il consenso e quindi c'è questo libro molto carino che si chiama Dai un bacio a chi vuoi tu e che è trattato con un linguaggio proprio adatto a quello che è la scuola primaria e ben vengano altri libri come questo dove veramente noi cerchiamo di dargli input perché una nostra difficoltà che poi condivido con la collega che prima parlava oppure con lei che pure aveva menzionato questa cosa è che all'interno delle classi noi appunto cerchiamo di dare gli input e siamo gli educatori però ci troviamo poi ad affrontare anche la difficoltà di quello che sono poi l'educazione che gli viene data a casa dagli adulti dalla propria famiglia dagli adulti che li circondano e che spesso anche di altre culture di altre culture che magari ahimè sono anche parecchio indietro rispetto a quello che è poi la figura della donna nella società che cosa ne pensate? Intanto le chiedo un favore nel momento in cui verrà la la tutor del Monte dei Paschi a lavorare con voi segnalate questa necessità di lavorare sul consenso ne abbiamo introdotto questa cosa però mi sembra una cosa molto importante possiamo costruire delle simulate delle situazioni in cui il consenso è di fondamentale importanza del rispetto del consenso come dire della reciprocità di fatto l'abbiamo trattato in varie questioni però su questo del consenso maschio donna del consenso ad avere un bacio del consenso della differenza tra uno stupro e un far l'amore insomma è fondamentale e passa dappertutto poi dell'altro grazie grazie a lei ci sono altri interventi aprite il microfono direttamente non passate attraverso la sala di mano grazie a tutti come dire questo silenzio mi da una conferma su una cosa che più o meno abbiamo immaginato sempre che da un lato c'è alcune di voi sono molto sensibili all'argomento c'è una disponibilità straordinaria per molte altre invece c'è una difficoltà grande nel trattare questi argomenti qui e che va rispettata non c'è ombre di dubbio ma che in qualche maniera può presentare un limite rispetto ai modelli culturali che noi proponiamo all'interno della scuola noi stiamo parlando non vogliamo non possiamo non è nelle nostre possibilità cambiare le cose che accadono a casa non ce la facciamo non ce la faremo mai se proviamo a metterci di mezzo verremo massacrati insieme alla famiglia insomma possiamo discutere valutare di questo parlatele parlatele a scuola nel momento in cui vengono fuori situazioni di grande gravità come attivare i servizi dal servizio sociale ai servizi della ASL al servizio di salute mentale al SERD e così via rispetto alla prospettiva di come dire cercare di intervenire in una situazione di grande dolore ok però come farlo e come attivarsi è molto importante che lo discutiate all'interno della scuola d'accordo col dirigente scolastico altra cosa invece appunto noi stiamo lavorando per migliorare il clima all'interno della classe e questo è nelle nostre possibilità anzi è nel nostro dovere quindi proviamo a introdurre un tema che è importante che è fondamentale e che molti dei nostri ragazzi ma forse anche uno non ha la possibilità di sperimentare una modalità sana di sentirsi maschio o di sentirsi femmina e se non interveniamo educativamente all'interno della classe stiamo creando un mostro stiamo contribuendo al permanere di un modello che potrà portare conseguenze ok quindi è nella nostra possibilità intervenire facciamolo in classe però nel momento in cui i ragazzi sono con noi infatti in questo modo si convalida quello che è l'andamento generale riguardo all'attività all'attività mi è sembrata molto molto bellina molto importante e mi è capitato di fare lo stesso lavoro non sapendo che questo percorso non conoscendo questo percorso in una terza perché il libro di testo ci offriva la possibilità di leggere la biografia di Alfonsina Strada che è stata la prima ciclista forse donna della storia e i bimbi furono molto presi da questo discorso e ricercammo appunto notizie su altri mestieri che potevano essere stati fatti da donne precedentemente nella storia e fu molto interessante ne nacque anche un dibattito fra i bimbi come quello che proponeva lei prima utilizzando la metodologia del debate e fu molto interessante sì poi rimane il fatto di riuscire a dare continuità educativa a questo intervento ogni tanto riprendendolo o comportandosi in maniera rispettosa delle rispettive differenze di genere no? e dando questa è la permanenza educativa è fondamentale da questo punto di vista ecco perché è essenziale passare siete voi le protagoniste ma se si inizia un discorso è difficile poi tornare indietro per cui è sempre stato ripreso perfetto perfetto se non ci sono altri interventi vado avanti ok? allora modulo 5 allora questa è una cosa come dire abbiamo voluto dare spazio a un organismo che esiste in Italia e che spesso è misconosciuto ma che è molto molto importante che ha a che fare con un'altra considerazione non c'è soltanto l'identità di genere c'è anche i diritti dell'infanzia carta dei diritti del fanciullo e nuovi diritti questa è la carta costruita dall'autorità garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un modello molto molto interessante c'è una convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dell'adolescente e tutto questo è basato su un valore della condivisione della partecipazione attiva dei cittadini abbiamo voluto dare questa questa informazione abbiamo voluto valorizzare che credo che sia ripreso anche da altri unità didattiche c'è l'UNESCO di Torino che sta lavorando su queste cose e che ha a che fare con adesso vi rendete conto c'è una questione nazionale molto importante veramente importantissima il diritto di voto a una certa età influenza pesantemente il peso di una determinata categoria di cittadini rispetto alle scelte nazionali detta così non si capisce ma il fatto che i bambini e gli adolescenti non votano non votino spesso si dimentica la necessità e l'importanza di dare valore a questi a questi cittadini hanno un peso relativo molto poco molto poco incisivo le città non sono costruite per i bambini sono costruiti dei luoghi dove i bambini possono giocare liberamente ma farlo in città se può le strade sono costruite per quelli per gli adulti che sono capaci di portare la macchina ma nei marci e piedi i bambini vanno condotti per mano quindi è difficile essere bambini e c'è poca attenzione e poco investimento risguardo ai bambini adesso che oltretutto c'è una diminuzione così importante del dato di natalità i bambini sono merce rara sono veramente una specie a rischio di estinzione da questo punto di vista per cui li dobbiamo tener cari e credo che sia anche qui sarebbe doveroso chiedersi come una sostanziale situazione di mancata fiducia verso il futuro sta pesantemente influenzando il futuro prossimo venturo che arriva attraverso una percentuale di bambini rispetto alla popolazione totale molto minore per cui siamo anche qui in una specie in via di estinzione ma io non invocherei la salvezza nazionale oppure la supremazia del maschio perché poi di fatto in altri ambiti o altre popolazioni che sono nostri ospiti non hanno questo problema rappresentano una possibilità molte delle vostre scuole molte delle vostre classi la presenza del bambino straniero è un'opportunità rispetto al calo dei diritti delle nascite per cui mi diceva l'altro giorno una vostra collega di terza quasi la metà in alcune classi dei ragazzi sono stranieri allora diventa un'opportunità e voi lavorate sull'integrazione e sulla sulla ricchezza di questa di questa possibilità di confronto tra bambini di pelle di colore diverso e sulla ricchezza dell'integrazione tra le varie possibilità però ci rendiamo conto che per esempio questi bambini in Italia fanno hanno la fatica bestiale per avere il diritto alla cittadinanza per esempio ce l'avranno anche dopo ma già pur frequentando le scuole italiane raggiungendo un titolo di studio italiano non è detto che possano diventare cittadini italiani è una mancanza di diritti è una doppia mancanza di diritti quindi da un lato c'è un deficit sostanziale d'attenzione verso il bambino e l'adolescente e questo è manifestato anche dalla scarsa capacità dello Stato italiano di garantire servizi all'infanzia e di garantire la dovuta importanza della scuola voi siete una delle categorie peggio pagate e la sanità pubblica piano piano sta per essere smantellata quindi di fatto chi pagherà un prezzo molto grande saranno le nuove generazioni quindi bisognerebbe invertire questa tendenza dare valore alla scuola investendo sulla scuola facendo in modo che i docenti siano in grado di poter fare il lavoro sempre più e questo garanterebbe una qualità migliore della nostra infanzia e della nostra adolescenza in base a tutto questo abbiamo pensato di utilizzare questo manuale del la carta dei diritti e faccio i nuovi diritti dell'autorità garante dei diritti dell'infanzia allora che cosa è stato fatto la carta è abbastanza pesante non è stata costruita per i bambini e gli adolescenti è stata costruita come strumento costruito da adulti che certifica i diritti dell'infanzia però abbiamo cercato di fare un'operazione nella allora abbiamo dato la versione della carta che è già pulita da tutta una serie di normative di alcuni aspetti mi sembra che è composto da 48 domande e alcune di queste sono stucchevoli per certi aspetti per cui abbiamo fatto una scelta in base a un lavoro fatto da Save the Children su questa carta che ha animato la carta di la ripulita in qualche modo quindi vi daremo un elenco di queste di questi diritti e vi chiediamo appunto di fare in modo di far lavorare i ragazzi su questa carta di diritti due parole sulla metodologia questa è cooperative learning di lavoro di gruppo in gruppo che potete utilizzare per qualsiasi strumento o anche per promuovere nuovi capitoli di italiano nella vostra classe allora avete bisogno di preparare foglietti di cinque colori diversi e di cinque simboli diversi cioè ad ogni colore il giallo c'è un simbolo un quadrato un cerchio una stella un rettangolo e una che so un arcobaleno o qualcosa qualsiasi altra forma di questo tipo nel manuale c'è il suggerimento bisognerà formare in maniera con come dire dando a caso i colori questi foglietti e formando inizialmente cinque gruppi adesso uno dei problemi grossi è che noi come dire stiamo lavorando su una classe media di 25 ragazzi ma non è detto che sarà così quindi dovete fare uno sforzo di immaginare di formare gruppi di almeno tre persone e di regolarvi in base ai ragazzi che avete in classe quindi se anche non ne formate 15 e 5 gruppi ma riuscite a formarne tre va bene di gruppi a secondo di come state l'importante è che sia salvaguardata la metodologia e che ci sia un lavoro su uno dei contenuti della carta ok quindi la prima la prima strutturazione per gruppi è in base al colore si formano cinque gruppi in base ai cinque colori che distingueranno i vostri ragazzi si dà un articolo si fa scegliere a ciascuno di loro un articolo della dichiarazione dei diritti del fanciullo e dell'adolescente dell'autorità garante e il mandato è il mandato è condividere il contenuto tra di loro discuterlo e tradurre il tutto in un disegno ok quindi le si dà un articolo si chiede di discuterlo e di mettersi d'accordo su come poter fare un disegno che rappresenti quell'articolo lì ciascun gruppo lavora gli si dà un tempo determinato e poi quindi si creano cinque postazioni di lavoro e il disegno rimane in quella postazione di lavoro si ricompongono altri cinque gruppi in base ai simboli vale a dire che i gruppi si scompongono e i quadrati vanno a formare un altro gruppo il cerchio va a formare un altro gruppo se tutto funziona bene e dovrebbe funzionare voi avrete nuovi gruppi in cui ci sarà un rappresentante che ha partecipato alla costruzione di ciascuno dei disegni il mandato è adesso iniziate da una postazione la persona che ha costruito che ha contribuito a costruire quel disegno la racconta agli altri e poi il passaggio successivo in questa maniera tutti interverranno tutti hanno partecipato tutti parleranno ok questa è una modalità di lavoro di co-learning puro dove un argomento completamente nuovo viene trattato dai ragazzi viene scomposto e riformulato simbolicamente in un disegno quindi è anche un'operazione molto adeguata e la parte successiva è che poi il disegno verrà raccontato quindi ciascun gruppo avrà avuto un'informazione su almeno altri cinque degli articoli fatti dagli altri ok e poi si lavora in plenaria su quello che hanno appreso si discute e così via da un lato è fondamentale la metodologia dall'altro invece è molto interessante il contenuto del gruppo di lavoro ok è il diritto che stiamo affermando ed è importante che loro abbiano concezione di un diritto poi c'è anche il dovere e questo è un'altra delle cose su cui potete ragionare e fermarvi questo è il modulo cinque il modulo sei è in tutto simile l'importanza le nozioni sono l'importanza di riconoscersi come portatori di diritto è di tutti il diritto individuale ed è di tutti e poi c'è per un lavoro fatto dall'autorità garante è quello di costruire e di stimolare la costruzione di diritti nuovi come dire sono stati costruiti gruppi di lavoro all'interno di alcune scuole e questi ragazzini vi è stato chiesto di esaminare la carta ed eventualmente aggiornare l'elenco dei nuovi diritti quindi sono venute fuori alcune proposte molto molto interessanti e l'avrete in questa parte nozione essenziale per il docente però tenetevi per voi nel senso essenziale che voi sappiate che esiste già un lavoro molto simile a quello che andrete a fare con la classe rispetto alla costruzione autonoma di diritti nuovi costruiti dai ragazzi stessi il si 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 potere una qualità possiamo inventarci cosa manca cosa ritenete essere essenziale rispetto ai diritti del fanciullo e se ne fa un elenco dove è importante valorizzare ciascuna cosa che viene detta viene scritta sulla lavagna poi si fa il lavoro di cernita di riunione di mettere insieme cose che sono abbastanza simili chiedendo sempre ai ragazzi se sono d'accordo alla fine bisogna costruire una graduatoria secondo voi cos'è più importante di quale di questi diritti ha la precedenza rispetto agli altri vengono fuori altri cinque diritti nuovi e si rifà la stessa cosa di prima si ricostruiscono i cinque gruppi e rispetto al nuovo diritto gli si dice questa volta di costruire una nuova carta dei diritti quindi di metterlo in una forma di espressiva chiara con linguaggio anche di tipo burocratico e di trovare la definizione di quel nuovo diritto nel senso che nel lavoro di primaria primario può venire fuori il diritto al gioco ecco come possiamo renderlo ed esplicito ed esplicitarlo in una carta dei diritti italiana dei nuovi diritti del fanciullo in plenaria ciascun portavoce comunicherà il lavoro svolto e viene in qualche modo pubblicata la nuova carta poi dipende se avete un giornalino se volete attaccarlo al muro insomma va valorizzato quello che chiedono ok ci siamo? ci sono domande rispetto a questo? la coppia vi è chiara di come procedere nel manuale avrete l'elenco dei diritti dovrete fare copiare tagliare e poi trasformare in foglietti organizzarvi per fare in modo che ci sia un'estrazione insomma c'è tutta una modalità che serve a garantire l'assoluta casualità nella costituzione dei gruppi e la possibilità di mischiare le carte all'interno della classe questa è un'altra delle metodologie che permette di sbloccare le situazioni di idiosintrasie tra bambini all'interno della 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 classe quindi dovreste preoccuparvi che nelle regole del contratto di classe sia chiaro ed esplicito che non si fanno discriminazioni in classe e nessuno può dire io con quello lì non voglio lavorare ok che non ci siano esclusioni questo è fondamentale ci siamo? ok io vado avanti poi ci fermiamo a un certo punto a mezzogiorno ci fermiamo e poi facciamo la forata finale vediamo a che punto arriviamo altro stimolo che mi è arrivato allora molte di queste attività sono state costruite sul modello di Unplugged Unplugged è un programma europeo validato quindi che ha tutti i grismi della ufficialità rispetto alle metodologie utilizzate ed è sicuro che ottengono dei risultati positivi come dire è un programma creato per prevenire l'uso delle sostanze del fumo di sigaretta dell'alcol e delle droghe in contesti noi adesso lo facciamo in seconda media l'abbiamo fatto anche nel primo superiore quindi è un programma molto molto interessante basate su questa metodologia qui né più né meno abbiamo cambiato i contenuti ma le metodologie sono queste in quel manuale in quella modalità mancava una cosa essenziale mancava una cosa che invece è fondamentale adesso nei ragazzi che ha a che fare con la realtà virtuale e con il gioco ok quindi abbiamo pensato di introdurre una unità didattica che si occupasse di qualcosa che ha a che fare con una forma di dipendenza effettivamente presente tra i ragazzi di dieci anni l'uso del cellulare tant'è ok ditemi se è vero o meno la prevenzione di questi comportamenti come dire non è dire vi fa male perché tanto non funziona ma è promuovere comportamenti diversi rispetto allo strumento promuovendo una qui ritornano centrali le life skill delle capacità altre che sono importanti per la costruzione di una personalità le life skill sono queste pensiero critico quindi avere la capacità di discernere e di poter non accettare passivamente quello che ci viene detto ma di andarsi a informare su quello che prima di esprimere un'opinione la capacità di prendere decisioni molti di questi bambini sono molto in difficoltà su questo la capacità di risolvere problemi anche qui ci sono delle esercitazioni delle modalità che possono aiutarli a prendere delle decisioni il pensiero creativo la capacità di comunicare in modo efficace anche questo può essere insegnato come vedete sono capacità trasversali che sono propedeutiche a qualsiasi tipo di nozione di materia capacità di comunicare in maniera ufficiale voi li vedete che alcuni di questi ragazzi sono in difficoltà proprio nella comunicazione di farsi capire sono sconclusionati anche nel parlare quindi bisogna lavorare su una come dire nell'affrontare problemi grandi che hanno a che fare con la timidezza con l'aggressività con comportamenti disforici insomma è abbastanza grande poi la capacità di relazione interpersonale e qui sono molto carenti l'autoconsapevolezza quindi percepire da dentro le proprie cose l'empatia che è una questione fondamentale per entrare in relazione basata su emozioni positive con gli altri saper gestire le emozioni altro grande capacità che si può insegnare e il credo normativo credo normativo vuole dire non abbiamo paura di affermare che alcune cose sono più positive di altre però creiamo una situazione in cui le regole di comportamento del gruppo siano intese come positive ed importanti e vanno a influenzare la mia maniera di comportarmi ok le regole quello che io credo che sia lecito fare mi permette di fare delle cose o meno per dire se tutti quanti parlano delle canne e tutti quanti dicono ah non c'è problema le canne roba leggera non se può fare ecco quella quel modo di pensare permette al ragazzino di farsi la canna il problema qual è che più presto inizi con le sostanze più grandi sono i danni che ti fai e anche le canne che è vero che sono tra le quelle più con conseguenze meno pesanti ma possono essere di fondamentale interesse soprattutto in periodi di crescita molto grandi per cui uno dei nostri più grandi impegni io lavoro nel servizio delle dipendenze uno dei più grandi e grossi impegni che noi abbiamo è quello di ritardare il più possibile l'approccio di un ragazzo con le sostanze perché più presto si approccia alle sostanze maggiori sono le connessioni tra gli effetti della sostanza e il processo di crescita mentale quindi più forte il legame tra un comportamento deviante o la mancata il mancato sviluppo di alcuni processi mentali di alcune parti del cervello più i danni possono essere consolidati nel tempo e le conseguenze pesanti ok quindi quello che noi possiamo fare è di ridurre il tempo di esposizione come dire di rimandare il più possibile la prima cosa da rimandare è fuoco da sigarette mi scusate un attimo devo rispondere al telefono un attimo solo grazie a tutti Grazie. Scusate, siamo in un periodo di reclutamento delle scuole, quindi ogni tanto arriviamo a telefonare dalle scuole, che mi fanno le richieste più strane. Vabbè, ok. Quindi, quello che noi stiamo cercando di fare come servizio è fare in modo che l'incontro con sostanze psicoattive avvenga più tardi possibile, perché prima avviene e più i danni possono essere gravi. Ok? E la prima sostanza, quella di ingresso, non è la canna, è la sigaretta. E quella che fa più danni è la sigaretta. Su questo non c'è ombra di dubbio. Quindi, riuscire a portare più avanti possibile l'approccio con è di fondamentale importanza, ecco perché lavoriamo sull'assertività e così via. Però questi riguardano i nostri obiettivi. Nella scuola ci sono tanti altri obiettivi da perseguire, quindi è fondamentale lavorare sul life skill e sul credo normativo. Cioè, fare in modo che ci sia un pensiero diffuso e condiviso su determinati comportamenti e fare in modo che siano positivi questi pensieri, piuttosto che basati su così fan tutti, per cui anch'io. Ok? Questo è il credo normativo. C'è un microfono aperto e stiamo sentendo cose che accadono in casa. Vabbè, continua, va bene. Allora, questa storia qui è interessantissima, un po' complicata, ma secondo me è fantastica. È un modo di rileggere e di dare i contenuti rispetto ai videogiochi così come vengono pensati e fatti, tipo gli spara tutto e così via, per ridare anche un ruolo rispetto alla fantasia. Quindi, di nuovo, piuttosto che dire che giocare fa male, giocare col telefonino fa male, proviamo a proporre un'attività che è una riscoperta della fantasia, se vogliamo, che è un ragionare attorno a come vengono costruite le storie. Non so se voi conoscete Prop, però voi avrete, Prop è uno studioso russo che ha studiato a suo tempo la struttura delle favole. Ha ricostruito che all'interno di tutte quante le favole di quasi tutto il mondo ci sono dei personaggi codificati e ci sono dei ruoli che vengono svolti da questi personaggi. Vado a dire che c'è sempre, di solito una favola è sempre una storia che racconta un momento di passaggio, ed è il momento di passaggio dall'infanzia all'adolescenza, dall'adolescenza all'età adulta. Ho tentato anche di utilizzare questo schema per esaminare come è stato costruito la storia di Harry Potter. Harry Potter è basata su sta roba qui. Ci sono tutti gli elementi che andremo a dire. Quindi Prop ci propone una serie di personaggi, il protagonista, l'antagonista, la principessa o la donna che in qualche modo diventa protagonista, l'aiutante del protagonista, il mago, l'autorità e così via. Quindi ci sono tantissime funzioni. Accanto a ciascuna funzione, accanto a ciascun personaggio ci sono delle funzioni tipiche. Allora, il protagonista deve salvare la principessa, oppure c'è un ostacolo lungo la via, oppure c'è un combattimento in corso. Insomma, ci sono tante funzioni. Quello che vi chiediamo di fare è, sempre con grande pazienza, fotocopiare, perché tagliare un libro è brutto, ma fotocopiare l'elenco dei protagonisti, fotocopiare le funzioni, mischiare, dare una bella mischiata, ricomporre cinque gruppi in maniera casuale e a ciascun gruppo lo si lascia scegliere. Tra gli otto personaggi che convocano una storia e le sei funzioni per creare la storia, come dire, gli otto personaggi si devono muovere all'interno della funzione. Ciascun gruppo riceve un compito specifico tra queste tracce. Qui abbiamo cercato di dargli, come dire, c'è un protagonista, ci sono alcune funzioni generali e la storia è lotta contro il fumo di sigarette, lotta contro l'alimentazione scorretta, lotta contro la dipendenza dal telefonino, lotta contro il bullo violento, lotta contro l'isolamento e l'esclusione del gruppo. Queste sono le cose, le varie possibilità, le cinque possibilità. Ciascun gruppo è chiamato a costruire una rappresentazione di questa storia qui, con... Ah no, aspetta, non devono scegliere. Gli otto personaggi sono date tutti, le storie anche sono date tutte, quindi dovete fare una copia dei personaggi e delle storie per ciascuno dei cinque gruppi e loro possono scegliere di quali protagonisti utilizzare, i personaggi da utilizzare, le funzioni da utilizzare per rappresentare una storia su questi gruppi qua. E' una funzione abbastanza complessa, anche perché gli chiediamo poi alla fine che ciascun gruppo dovrà rappresentare la propria storia, quindi con il protagonista, con eventi che si susseguono e con un finale da fare. E' una sorta di summa complessiva di tutto quello che hanno appreso durante gli anni dell'elementare, di tutto il ciclo dell'elementare. Mettiamolo in questa maniera, siamo alla fine più o meno dell'esperienza della scuola elementare, quindi dovrebbero essere capaci di fare una cosa simile. E li stiamo dando in qualche modo un canovaccio, possibile, assegnando i cinque possibili confronti e lotte. In ogni storia c'è sempre un momento di scontro tra il protagonista e le vicende della vita. Vi sembra che può andare una cosa di questo tipo? Qui siete chiamati ad essere registi e a governare questi ragazzi. C'è anche un recupero della possibilità di inventare la storia, di muoversi all'interno di un contesto che è condiviso, di fare un'analisi delle... Qui potrebbe aprirsi una possibilità di sviluppo rispetto ai racconti, rispetto alla capacità di scrivere, rispetto al fatto che ci sono alcuni elementi che si ripetono nel corso del tempo e delle storie, rispetto al valore del protagonismo e rispetto alle vicende della vita quotidiana, dove c'è il protagonista, c'è un aiutante, c'è uno che... l'antagonista, ci sono dei personaggi che si ripetono. E riflettere su queste cose può essere molto utile. Stiamo parlando di filologia, probabilmente, oppure di una funzione essenziale di analisi del testo. Vale anche dal punto di vista didattico-curricolare. Ci siamo? L'altra cosa è che poi ciascun gruppo si esibisce. Quindi, come dire, costruire una storia. Cosa è che stiamo facendo? Rispetto alla passività di un videogioco, stiamo creando la possibilità che loro si appassionino ad essere protagonisti attivi di una storia. Questa è la risposta in positivo e la risposta implicita a questo isolamento con il videogioco. Vi sembra che possa andare? Qua ha bisogno di qualcuno di voi che si manifesti. Sì, sicuramente sì. Il teatro è una forma di veicolo di certe cose. E poi il gioco dei ruoli va bene. Anche il contesto utilizzare PROP può essere una cosa, non so se lo conoscete, però insomma è interessante questa storia, questa metastoria, no? Questo ragionare sui protagonisti delle favole. Sì, sì, anche questo infatti. Anche se qualcuno lo sconsiglia, qualche pedagogista lo sconsiglia. E chissà che gli viene in mente. E cos'è che propone? No, sconsiglia dal punto di vista psicologico, perché dice che certe figure sono troppo forti per i bambini. Ma quando mai? La paura è essenziale per loro. E infatti lo penso anch'io. Niente essenziale. Poter parlare delle loro paure è di fondamentale importanza. Altri interventi? Ok, vi propongo di parlare anche del modulo 8, che è il consolidamento. e qua devo perdere un po' di tempo, però forse conviene farlo dopo, perché vorrei parlare un attimino di quali sono gli indicatori. Qui parliamo di dispersione scolastica, di naturalità, di invecchiamento della popolazione, di spopolamento delle campagne. Cioè ci sono tutta una serie di situazioni che la scuola le riflette, le subisce per certi versi, ma che condizionano la qualità del tempo a scuola. Non c'è dubbio, appunto, parlare di solitudine della scuola, il docente è l'impresa impossibile. Che cosa possiamo fare rispetto a queste tendenze? E quanto può essere importante inserire la scuola in un contesto territoriale che presenta degli scompensi molto forti? Mi stupisce che un centro, per esempio, tornando alle cose che mi avete comunicato, un centro sicuramente che durante l'estate si riempie, follonica, ma poi alla fine non riesce a formare una classe con un numero sufficiente, è soltanto otto bambini. Come dire? È una tendenza preoccupante, è sicuramente uno dei segnali che interessa la Toscana, ma interessa un po' tutti i centri minori e tutte le località che sono fuori dalle grandi vie di comunicazione, in Toscana ce ne sono molte, dove questa denatalità e dove questa situazione di spopolamento, non solo di natalità, ma anche persone che vanno via dal piccolo paese senza rientrare. Mi rendo conto che probabilmente la Toscana soffre molto di queste cose e ci sono i centri aggregati delle province che hanno alcuni trend e altri invece che stanno soffrendo terribilmente, perché la distanza tra piccoli paesi in collina e il grande centro porta anche a delle scelte di vita di un certo tipo, dove abbiamo sempre più inglesi, americani, russi, o nelle colline metallifere, ma la popolazione effettiva diventa sempre più vecchia e sempre meno bambini popolano i paesi. Questo succede anche da noi, è un problema grosso, per cui una potenzialità enorme, una bellezza devastante, devastante perché di fronte a determinati paesaggi sono straordinari, stanno rimanendo luoghi da cartolina, ma non più abitati, ed è triste da questo punto di vista. È veramente triste, è la ricchezza italiana che si perde, la vera identità. E tutto questo voi lo sentite e l'avete. Nonostante il fatto che c'è una denatalità e il paese, la metaforolazione, insomma, sono delle cose abbastanza brutte da questo punto di vista. Finisco di trattare il modulo 8, poi nell'ultima, nell'ultimo quarto d'ora, insomma. Mi date il permesso di continuare senza fermarci o ci fermiamo per cinque minuti? Così lasciamo un po' di tempo alla discussione. Io penso si debba andare avanti, perché mi sembra che il tempo non sia molto. No, infatti. Vabbè, allora vado avanti e poi ci via. Il tempo guadagnato lo lasciamo a raccontarci qualcosa. Ok? Ok, ok. Quindi, questo modulo di consolidamento è qui, di nuovo. La stessa metodologia di prima, però stavolta abbiamo alcune frasi importanti del piccolo principe. È un libro a cui io tengo molto. Sono frasi piccole dell'incontro tra il piccolo principe e la rosa, il dialogo tra la volpe, sull'addomesticamento, insomma, frasi significative. Anche in questo è la metodologia dei colori e dei simboli. Quindi, una frase per ciascun gruppo costruito sui colori. ciascun gruppo lavora sulla comprensione della frase e a tradurla in un disegno, si ricompongono i gruppi, si fa il giro e ciascuno presenta il contenuto del disegno. Anche qui è un tentativo di... come dire... Lo trovo un tentativo di proporre la poesia come altro sistema per giocare. Perché poi alcune di queste frasi sono straordinarie. Sono molto, molto poetiche. Ed è anche un tentativo per promuovere la lettura di libri di questo tipo tra i ragazzi. L'altra cosa importante è che questi disegni rimangano come testimonianza del lavoro svolto nella classe. Se avete un giornalino, pubblicate sul giornalino, altri metri di parete vanno più che bene da questo punto di vista. Quindi, di nuovo, anche qui c'è una possibilità di proporre un'attività che naturalmente è alternativa a quello del videogioco. ha a che fare con la bellezza della lettura e ha a che fare con, di nuovo, la capacità di esprimere dei concetti su disegni. Quindi, di diventare di nuovo protagonisti attivi, di raccontare loro delle storie, piuttosto che essere dei fruitori finali degli spettatori o di essere coinvolti nello sparatutto. Noi li riusciremo a fermare. I sparatutto sapete cosa sono, no? Siete mamme, quindi sapete bene. È difficilissimo evitare a un bambino di giocare allo sparatutto. però è proporre qualcosa non sentiamo più Io non sento. No, neanche io sento, non si sente più. Vedo anche altre. Non si sente. Non si sente. Sì, sì, sì. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, perfetto. Sì. La presa USB. A che punto sono rimasto? Cos'è l'ultima cosa che avete sentito? Sparatutto. Sparatutto. Quindi ci siamo, insomma. Ritorniamo a occuparci delle emozioni come ultimo modulo e delle competenze relazionali. Scusa se ti interrompo. Ti si sente, ma almeno io non ti vedo più. Aspetta. Non so se gli altri ti vedono. Gli docenti lo vedono? Eccomi. No, neanche loro. No. Adesso mi vedete? C'è una... Nemmeno. C'è una... Ora neanche si sente. Ci siamo? Non parlavo. Mi sentite e mi vedete adesso? Si, si. Si sente e si vede la presentazione. Però non si vede più. Va bene. Non so che dirvi. Aspettate un attimo che ho una chiamata dell'entrata. Un attimo solo. Pronto? Sì. E mi... Posso richiamarla tra un po'? Chi è? Chi voleva dirvi? Mi può chiamare dopo mezzogiorno e mezzo, per favore? Grazie. Scusate se avete sentito... Allora, torniamo a noi. Mi... Mi sentite e mi vedete e vedete la presentazione, ok? Sì. Perfetto. Allora, parliamo degli ultimi due moduli. Torniamo ad occuparci delle competenze relazionali ed emozionali. Diamo per scontato. Allora, io spero che abbiate o siate state traversati in terza elementare sul modulo del riconoscimento delle emozioni. Allora, si parte da lì, dalle emozioni di base. Se vi ricordate, in quell'occasione... Allora, se non l'avete mai fatto, ve ne parlo. C'è un elenco di emozioni e c'era il mandato di costruire gruppi di tre bambini in maniera casuale. Veniva estratta un'emozione per ciascuno dei gruppi e il mandato era che i bambini dovevano rappresentare di fronte agli altri le emozioni secondo tre modalità. Mimando, quindi soltanto con i gesti, mimando con tutto il corpo l'emozione. Mimando solamente con il viso, l'espressione del viso e l'emozione, descrivendo l'emozione senza mai nominarla. E il mandato era che gli altri dovevano raccontare, riconoscere l'emozione. Tutto questo lavoro è essenziale, visto che i bambini sono completamente nell'onda delle emozioni. L'emozione è qualcosa che dà la qualità del rapporto che io ho con gli altri, nel senso che una persona mi è simpatica, c'è una naturale simpatia verso questa persona e la so sentire più volentieri. Se l'emozione di fondo è di antipatia, se quella persona non mi piace, non la sento, non l'ascolto. Se io sono arrabbiato e promuovo questa rabbia, questa rabbia mi porta a una serie di atteggiamenti del corpo di un certo tipo. Quindi, naturalmente questi bambini sono sempre in preda alle emozioni. È una maniera per riuscire a controllare le emozioni e dargli un nome, capire che mi succede. Questo è il modulo di base del terzo elementare. Se non l'avete fatto, ve l'ho descritto, insomma, l'elenco delle emozioni più o meno le prendete da qui. Questa è un'evoluzione. Siamo in quinta elementare, c'è una distinzione tra le emozioni di base, che di fatto sono soltanto queste qui. Il resto sono tutte variazioni sul tema. Felicità, tristezza, paura, color e disgusto. Vi rendete conto che le emozioni di base ce n'è una sola positiva, che è la felicità, le altre sono tutte, in qualche modo, manifestazioni di una preoccupazione, di una difficoltà. Queste sono le emozioni di base. Accanto a questo ci sono delle neoemozioni, vale a dire che nascono da dati culturali, mentre le prime quattro, con le loro variazioni, hanno a che fare con predisposizioni. Siamo costruiti, queste sono le emozioni di base, che hanno a che fare anche proprio con la nostra vita. Nel senso che la felicità è qualcosa che ci rafforza, è una ricerca continua. La tristezza è una manifestazione profonda che ci accade, che si traduce poi in mille altri modi. La paura è essenziale per la sopravvivenza dell'essere umano ed è anche un segnale molto forte rispetto al contatto con gli altri. La rabbia è un'altra delle emozioni di base. Il disgusto ha a che fare con il senso del gusto ed è fondamentale rispetto ad assumere veleni o ad assumere cibi nutrienti per noi. Rispetto a questo poi possono nascere neoemozioni. In una società in cui la solitudine si afferma, un certo narcisismo di fondo e la cultura della personalità individuale e dell'individualità è molto forte, sono nate nel corso del tempo, per motivi culturali, altre neoemozioni. Non ci sono al momento della nascita, si costruiscono mano a mano. Pretendere, controllare, diffidare, provocare continuamente, obbligare, lamentarsi, preoccuparsi. Voi pensate alla vostra classe e vedrete che alcuni di questi ragazzini si comportano a secondo e come se fossero sotto l'influenza di queste neoemozioni. Io non è che desidero una cosa, io la pretendo. Voglio controllare la qualità del rapporto che ho con te, voglio controllarti. Non mi fido di te, diffido di te. Impongo la mia presenza provocandoti e ti provo continuamente. Ti obbligo a fare una determinata cosa. Oh madonna, sto sempre male, sto male, mi lamento di questa cosa qui, non mi piace quello che fai. È una continua lamentazione. Sono continuamente preoccupata perché se esco da casa posso avere un incidente, sono preoccupata perché il mio figlio è uscito, sono preoccupato perché chissà, oggi la maestra mi interroga, quindi c'è questa predisposizione alla preoccupazione. Sono tipologie comportamentali che si basano su queste neoemozioni. Le emozioni hanno a che fare con la qualità del rapporto che io ho con gli altri e con l'ambiente che mi circonda. Ci siamo? Non ho risposte, però siamo così. Allora, come lavorare su queste emozioni e neoemozioni? Billettini con le varie emozioni. Qui c'è l'elenco. Spavento, gioia, sorpresa, disgusto, paura, terrore, euforia, innamoramento, tristezza, rabbia, nervosismo, esclusione, entusiasmo, preoccupazione, allegria, depressione e divertimento. Si formano delle coppie e il compito è di osservarsi e poi formulare una frase che contenga le caratteristiche positive dell'altro e il mestiere che si immagina possa fare. Allora, aspetta che qui manca una fase. Sì, la fase che manca qui è che poi con questi billettini si costruiscono delle simulate in cui si va a rappresentare queste emozioni. Si può usare la stessa cosa. È un elenco più grande rispetto al terzo elementare. Ci sono più raffinatezze e può essere molto interessante farli esprimere in quella modalità. Uno che mima l'emozione, l'altro che la fa vedere soltanto con il viso e il terzo che la racconta. La seconda fase, invece, è un modulo finale in qualche misura. Quindi c'è anche la necessità di promuovere emozioni positive all'interno della classe. Si devono osservare e una frase si deve pensare per l'altro le caratteristiche positive che ha e il mestiere che si immagina che poi possa fare questa persona. C'è il racconto a turno di cose che è stato scritto e l'altro deve dire se si sente rappresentato, se è in accordo o è in disaccordo. Quindi il parere dell'altro diventa parte essenziale con cui si può essere d'accordo o meno, ma che ti dà un'idea di come l'altro ti percepisce. Il gioco è soprattutto questo. Possiamo poi discutere nel plenare su quanto è accaduto, se ci siamo riconosciuti, se ci siamo irritati, se quello che abbiamo scoperto dell'altro ci ha fatto piacere, se non ci ha fatto piacere, se non sapevi neanche di avere quelle caratteristiche per cui che l'altro le veda può essere una possibilità su cui io lavoro, e così via. L'ultima fase, il racconto delle prevaricazioni da parte dell'insegnante, è richiesta di raccontare episodi che lo hanno visto protagonista o vittima. Qui siamo nell'ambito del racconto rispetto a quella roba lì, alle neoemozioni, a tutto quello che riguarda il rapporto tra me e l'altro. Stiamo creando le condizioni per poter parlare di quello che ci coinvolge. L'ultima unità didattica è Party Tiger, che è un gioco di role-playing pieno. Qui ci sono le regole del gioco. Che vuol dire che non stavi citando te stesso, proteggere i ragazzi, scrivere su un bigliettino quali sono i nomi fittizi della rappresentazione, ci sono delle scenette da dover fare, si può decidere come far sviluppare queste scenette, si assegna ruoli degli osservatori e il pubblico, si assegna un ruolo per ciascuno dei protagonisti del racconto e si fa in modo che ciascun gruppo si esprima e costruisca la scena, che è un canovaccio per cui poi tocca vedere quello che succede durante la rappresentazione. Dobbiamo dare sempre un feedback positivo. essere descrittivo, non interpretativo o valutativo, essere diretto a un comportamento concreto e osservabile, non essere legato alla capacità di recitazione dei ragazzi. Cos'è che vogliamo fare? Ci sono una serie di situazioni. bisogna creare una scena, delimitare uno spazio in cui gli attori faranno il loro compito, non si danno indicazioni su come può svilupparsi il gioco. ci sono delle situazioni iniziali, partecipo a una festa, organizzo una festa, sono a casa mia, ci sono tutti i miei compagni che arrivano, a un certo punto arriva uno dei miei compagni e mi propone una cosa, che ne so, vedere un film piuttosto che giocare tutti quanti insieme, fumarci una sigaretta o bere alcol e introdurre un comportamento diviante. e dobbiamo vedere cosa è successo in questa maniera, con maggiore predisposizione al mettersi in gioco. In tutto questo lasciamo che la scena si attui, vedrete che sarà sempre molto delitiera, può anche succedere che poi il contro leader, cioè l'intruso, in qualche maniera riesca a imporsi e allora bisognerà fermare il gioco e pensare a come aiutare il protagonista a resistere alla tentazione. Se c'è tempo si allestisce una nuova scena con un nuovo gruppo, voi troverete le storie tipiche e anche qui si può scegliere casualmente. Allora, siamo arrivati. Mi date un feedback di quello che vi è rimasto, se può essere utile, se pensate di riuscire a proporlo, se vi sembra una cosa positiva tutta questa storia o meno. Aspettate che tolgo la condivisione. È tolta? O ancora c'è? È tolta. Ok, perfetto. Ci sono riflessioni? Datemi un feedback, per favore. Intanto ditemi, lo so che è una delle modalità più stancanti che ci sia, quattro ore con questa roba, vi ringrazio per essere rimaste lì con sguardi ancora accesi. Però datemi un feedback, perché non vi ho visto per tutto il tempo, stavo davanti al video. Quindi ditemi qualcosa. Il webcam non c'è più. In tutto il mio splendore. Ditemi almeno se ho fatto la mia porca figura, come si direbbe. Sì, professore, sicuramente sì. Le attività sono interessanti e fattibili, quindi tutte cose che possiamo attuare benissimo. Grazie. Grazie a voi. Ci sono altri commenti? Mi devo accontentare soltanto di un giudizio positivo. Madonna, che siete così... Anche io sono contenta della lezione di come è andata e di questo collegamento. Solo che rispetto a questo argomento, all'identità di genere, è veramente affrontare una montagna. Mi dà l'impressione proprio di affrontare una montagna grossa, grossa, grossa. Però l'abbiamo limitata abbastanza, quindi come dire... Poi da lì sta a voi quanto vi sentite da andare avanti. Perché effettivamente è una grande montagna, ma se non interveniamo andiamo avanti nella creazione di mostri. È vero. Condivido. Non si può essere affrontato un problema come quello della devianza giovanile in asprendo le pene. Assolutamente no. Dobbiamo riuscire a fare proporzione di salute e prevenzione. Sì, in effetti bisogna fare un passo indietro. E come diceva lei, non è un problema di ordine pubblico, ma è un problema sociale. Condivido a pieno questa sua affermazione. Va bene. Ci possiamo salutare. Vi auguro un buon anno scolastico. Vi ringrazio per aver prestato attenzione dei commenti positivi e chissà, forse ci rincontreremo. Grazie a tutti.